Grazie. 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 Saluto in generale, perché tutti quanti sarebbe difficile per me elencarli anche, ci sono tante personalità di grande rilievo, ma nel salutare tutti e nel porgere a tutti il ringraziamento di essere intervenuti vorrei in particolare destinare un saluto al nuovo capo della Polizia Stradale che è fra di noi. Buongiorno, come sta il dottore che ha assunto questa carica così importante da pochi giorni, credo, e quindi siccome il Consiglio nazionale dell'economia del lavoro, di cui sono Presidente, ha fama di portare fortuna alle persone che vengono, in particolare quando sono di recente nomina, molti auguri a lei. Allora, signori, il CNEL ospita questo dibattito sulla sicurezza stradale del Road Safety Pin, tema di attualità e di interesse, come dimostra anche l'autorevolezza dei relatori. Noi su questo tema ci interroghiamo da parecchio tempo, già il CNEL in passato se mi è occupato ripetutamente, e ci interroghiamo su parecchie cose. Ma se posso un po' spingermi al di là della comune convenienza civile, diciamo, no, ma sarò civile, comunque, una delle cose su cui ci interroghiamo di più sono i motivi per cui sulla strada sono, se non mi sento il capo della Polizia Stradale, sono sempre più diffusi i comportamenti, certi comportamenti, di chi continua ad essere refrattario anche alle semplici regole di rispetto del prossimo. Ma perché? Ora, non so se anche nel vostro caso, ma siamo tutti quanti, penso, refusi da un periodo di vacanze, quindi abbiamo frequentato strade, autostrade. E io questa costituzione continuo a fare. Ma perché siamo sempre più refrattari? Siamo in generale. Ci sono delle eccezioni, io sono un'eccezione. Refattari all'osservanza di regole, anche di rispetto civile verso gli altri. Insomma, sono troppe, ancora troppe, le vittime per incidente stradale nel nostro paese. 3860 solo nel 2011. 3860, fate un rapporto con 365 giorni, 3860 e un milione di feriti. Un milione di feriti. E come causa di morte, soprattutto fra l'età, nelle fasce di età più giovani, questa è la principale. L'incidente stradale, mortale. Ora, l'attenzione su questo tema, ovviamente, con questi dati e anche con queste sofferenze, anche a sofferenze di chi rimane, è molto aumentata nel corso degli ultimi anni. e ci sono alcune istituzioni, fra cui la fondazione che partecipa a questa iniziativa, o che addirittura ha avuto l'iniziativa, insieme all'altra, all'altra associazione, apposso il problema. Però non è che uno si può limitare a fare una campagna di educazione stradale, che è pure importante, per carità, ma in genere queste trasformazioni culturali sono quelle che avvengono nel cosiddetto lungo periodo. Ma ci sono degli interventi proprio di sistema e che tengono anche conto, necessariamente, perché è un dato, tenga conto anche degli stili di vita della gente. Il fatto sta, e qui un po' parlo dell'economia, che nella nostra società, nella società moderna, spazio e tempo sono diventati fattori che possono essere fattori di produzione se organizzati, spazio e tempo, in modo funzionale e positivo, fattori di produzione. E possono, al contrario, diventare vincoli e rigidità negative per la produzione nel caso che rimangano, permangano quei limiti alla libertà del movimento delle merci e delle persone. Non siamo più un'economia agricola in cui i movimenti erano limitati nelle persone e comunque avvenivano in uno spazio largo su estensioni larghe, quelle della campagna. Siamo ormai città abitate, in molti casi, da milioni e milioni di abitanti che si muovono dalla mattina alla sera si muovono nei limiti consentiti dai vincoli a cui mi riferivo prima. e il tempo si muovono nello spazio e nel tempo il quale tempo è alla base della produttività. Se tu perdi il tempo lo sottrai alla produzione. Quindi queste rigidità influenzano la produttività, il rendimento in termini di prodotto delle persone. Insomma, in altre parole, sei una persona per arrivare sul posto di lavoro. Sia lui un imprenditore o un lavoratore ci mette due ore. Le altre due per tornare. Quello è il tempo sottratto alla produzione in larga parte. Oppure, e non è questo nemmeno tanto secondario, alla qualità della vita. Voi sapete che su questo tema della qualità della vita il CNEL ed io personalmente ci siamo impegnati molto. Dicendo sì che è importante la produzione ma anche come viviamo la qualità della vita. ecco perché spazio e tempo sono diventati fattori della produzione in una società dinamica in cui c'è la globalizzazione. Bisogna muoversi in tutte le direzioni possibili. Ma possono diventare invece vincoli sia per la produzione che per la qualità del nostro vivere. la carenza infrastrutturale della rete stradale italiana non è comparabile con quelle delle altre realtà europee. delle realtà europee più dinamiche. Soffriamo di una atavica inefficienza inoltre del trasporto pubblico che induce a una mobilità completamente sbilanciata nei modi in cui avviene ed è anche percepibile proprio direi a livello sensorio un regresso comportamentale dei guidatori italiani. In certi casi spero di poter dire estremi alcuni di questi giungono a considerare la strada come un'arena dove far esplodere la propria insoddisfazione o emulazione o insoddisfatta emulazione. Quindi vari fattori la rete stradale il trasporto pubblico e questo atteggiamento emozionale che si manifesta in certi casi che spero di poter continuare a dire limite. Le leggi di stabilità che si sono succedute nell'ultimo quadriennio 2009-2012 hanno portato a una drastica riduzione delle risorse per nuove infrastrutture complessivamente in questi anni 2009-2012 una riduzione varia al 44% quasi alla metà. nel 2013 in positivo la legge di stabilità registra un'inversione di tendenza con un aumento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture di circa il 20% rispetto al 2012. Le grandi opere oltre a rappresentare ovviamente un'emissione di ossigeno per l'economia durante una crisi modernizzano la rete quindi agiscono dal lato della domanda in quanto investimenti che è ines ma anche dal lato dell'offerta perché modernizzano la rete favoriscono la sicurezza delle infrastrutture e la rapidità dei collegamenti che sono tutte condizioni necessarie anche per contenere questo disastro che sono gli incidenti stradali così numerosi così gravi e così spesso mortali. L'auspicio è che l'Italia grazie a questi investimenti e i futuri investimenti possa allinearsi per la propria rete viaria agli standards oltretutto richiesti dalla Commissione Europea. L'automobile è il mezzo di trasporto più diffuso fra la popolazione oltre il 75% del parco circolante italiano è composto di autovetture. ma l'86% degli italiani dichiara che a parità di tempi di percorrenza quindi vorrebbe una garanzia quanto ai tempi di percorrenza sarebbe disposto ad utilizzare i mezzi pubblici ma i cittadini non trovano valide alternative e l'automobile resta il mezzo preferito nonostante lo stress che il suo utilizzo provoca e nonostante la pericolosità testimoniata dai dati che ho sommariamente citato e in altri tutti è ovvio che non si tratta di sostituire l'automobile ma di integrare l'automobile in modo da consentire una scelta fra alternative a differenza di molte realtà europee ha stati fatto la situazione città italiana risente di un pesante deficit di trasporto collettivo e le misure finora adottate dallo Stato e dalle regioni a favore del trasporto appunto collettivo locale e regionale sono inadeguate a garantire un servizio che per qualità e quantità non corrisponde alla domanda io di questo mi sono anche occupato in un modo specifico perché sono stato il presidente della commissione sul futuro di Roma capitale quindi so come si pone questo problema a Roma in maniera terribile disastrosa ma le vie di razionalizzazione ci sono vi sono paesi europei come l'Olanda noto tra l'altro dove la percentuale di spostimenti in bicicletta arriva quasi al 30% tra l'altro mi dicono che fa bene alla salute a una certa età non si può più ma insomma io probabilmente non userò mai più una bicicletta in vita mia anche se conterei per i prossimi 50 anni di averne l'occasione ma insomma quasi è il 30% in Olanda la usa la bicicletta in Italia invece un po' la morfologia delle città dove ci sono troppi colli diciamo diventa un po' più difficile un po' la percezione di una scarsa sicurezza per chi la usa sulle strade e il fatto che il più delle volte le piste ciclabili non rispettano le norme di protezione per chi le usa scoraggiano stanno scoraggiando l'uso di questi mezzi mi riferisco a biciclette perché in questi casi è bene avere il quadro di tutte le alternative possibili ora il problema è riconquistare lo spazio urbano tramite interventi che favoriscono il raggiungimento di un diverso e migliore equilibrio fra le varie opportunità o chance dei modi di circolazione infrastrutture stradali adeguate per le utenze deboli segnaletica adeguamento degli arredi urbani sono alcuni possibili interventi che possono portare o contribuire ad un cambiamento delle città e dei modi del trasporto a favore della sicurezza e della sostenibilità anche ambientale tra l'altro per affermare il diritto a una mobilità più sicura più equa e sostenibile serve una larga mobilitazione e per creare una massa critica efficace è necessaria una rivoluzione prima di tutto culturale che dicevo prima è necessaria anche se prende sappiamo tempo l'automobile oggi non rappresenta semplicemente un mezzo di trasporto e se fosse solo questo creerebbe i problemi che sappiamo ma è parte proprio ormai dello stile di vita individuale l'automobile in futuro io penso che si dovrà andare sempre di più verso una mobilità intesa come servizio e cioè l'obiettivo di quello di promuovere una svolta soprattutto nelle nuove generazioni affinché la sicurezza stradale sia un diritto da conquistare quanto prima per mettere fine ad una tragedia che costa l'Italia 3860 vittime all'anno soprattutto giovani vittime e qui consentitemi una piccola disgressione noi dobbiamo decidersi ad orientare la nostra politica economica finanziaria un po' più a favore dei giovani è inutile che vi cito il dato della disoccupazione giovane che ne la conoscete è inutile che vi ricordo che ci sono giovani che non lavorano e non studiano e la conseguenza è che molti giovani si sentono esclusi dalla società se non lavorano né studiano si sentono esclusi dalla società e si illudono di poterci tornare nella società con internet ma non è così internet è una falsificazione dei rapporti umani non sono rapporti umani si finge di bisogna fare una politica di inclusione dei giovani una politica per i giovani e una politica per i giovani ha nelle sue componenti anche quello di cui oggi voi vi occupate grazie faccio le cerimonie ringrazio il professor Marzano per l'intervento e per l'ospitalità che ha dato a questo convegno ringrazio tutti gli intervenuti ai lavori di oggi e do abbastanza rapidamente la parola ad Antonio Avenoso che è il direttore esecutivo dell'European Transport Safety Council che vede la fondazione membro da diversi anni ormai e che oltre che è stato diciamo il promotore di questo convegno insieme a noi abbiamo realizzato la giornata di oggi ma abbiamo realizzato anche tante altre attività in collaborazione grazie mille e benvenuti anche a nome dello European Transport Safety Council ITSC a questo convegno che ITSC organizza con la fondazione ANIA per la sicurezza stradale sulla situazione della sicurezza stradale in Italia e soprattutto nel contesto dell'obiettivo numerico di riduzione del numero delle vittime da qui al 2020 anche a nome di ITSC vorrei ringraziare il professor Marzano per l'ospitalità in questa bellissima sala del Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro siamo onorati di poter svolgere il nostro convegno in questo ambiente e questo è il terzo convegno PIN in Italia e organizzato dall'ITSC con la fondazione ANIA l'ITSC è una organizzazione non governativa che è stata creata a Bruxelles vent'anni fa ricorre quest'anno il nostro ventennale è stata creata nel 1993 come reazione al numero inaccettabile di morti e feriti sulle strade europee quando siamo nati nel 1993 avevamo soltanto tre membri adesso ne abbiamo 46 e sono organizzazioni nazionali ed internazionali il cui scopo la cui volontà primaria è quella di ridurre mitigare l'impatto della sinistralità stradale sulla popolazione europea dicevo dei 46 membri a parte ovviamente la fondazione ANIA che organizza con noi abbiamo anche il centro studi di città amica dell'università di Brescia e il centro per il trasporto e la logistica dell'università della sapienza di Roma il PIN nasce nel 2006 come reazione alle politiche europee di sicurezza stradale per cercare di analizzare quella che è la diciamo il progresso dei vari stati membri verso il primo obiettivo di riduzione del numero delle vittime sulle strade che l'Unione europea fissò nel 2001 con obiettivo decennale fino al 2010 il PIN analizza le performance di sicurezza stradale di 32 paesi i 28 stati membri più Israele Svizzera Norvegia e di recente anche la Serbia e a tal proposito vorrei anche ringraziare il ministero dei trasporti nonché l'automobile club d'Italia per i dati che ci vengono forniti ogni qual volta ne abbiamo bisogno fatta questa introduzione io finirei qui la agenda di oggi è molto molto interessante quindi vi auguro una buona conferenza grazie grazie Antonio Avenoso è arrivato adesso il ministro il ministro Lupi quindi prego i relatori di tenersi nei tempi che avevamo stabilito chiamo a parlare il dottor Giovanni Lobbianco che è amministratore delegato della Volvo Trax Italia Buongiorno Buongiorno a tutti sono il ministro di direttore Volvo Trax Italia sono felice di essere in Roma oggi rappresentare la Volvo gruppe e la Volvo Trax due dei principali sponso del programma PIN PIN Penso credo che non sia un overstatement di dire che la cultura gruppe è molto molto riguardo la sicurezza in realtà è stato il principio di guida che la firma è stata fondata nel 1927 e quando i fondamenti stati che la sicurezza è e è sempre il principale del nostro lavoro di design e abbiamo continuato su questo passaggio ma anche da lì aggiungi i principali di qualità e di care dell'ambiente ai nostri covali corporelli con riguardo a la sicurezza abbiamo a una corporella gruppo l'ambiente la visione che dice che dovremmo avere zero accidenti con prodotti di gruppo Volvo, bus, equipaggi di construzione e così. E per il negozio del truck, in particolare, la visione zero significa che nessuno di volvo tratti deve essere involvati in un accidente di traffico. Alcuni potrebbero pensare che questo è un obiettivo e un obiettivo che non è un obiettivo, ma perché? dovremmo essere meno ambitiati? Pensate su questo, in tutto ci sono circa 1.2 milioni di accidenti fattenti nel mondo per anno, che significa che 3.000 persone sono morti ogni giorno sulla strada nel mondo. Questo è uguale a 10 avanti passaggiati all'anno per giorno. Questo sarebbe proprio nonostante. Zero accidenti è un necessario stabilito nel settore aviazione. perché dovremmo essere sottolineato per meno nel settore aviazione? È questa attitudine che nessun accidenti è mai accettabile, che dovremmo aspettare per un implemento con riguardo alla sicurezza. come risultato di questo obiettivo, credo che molti persone oggi hanno la nozione di sicurezza in mente, quando il volvo è menzionato, regardless se fosse un'auto, un'auto o un'auto. ma non solo si tratta da nostra visione di sicurezza di sicurezza. Nel anni 50, il volvo inventa la tre-ponti sottolinea, per esempio, che è ora un standard. E abbiamo, inoltre, sviluppato molte innovazioni di sicurezza di sicurezza, come sistema di protezione fronte e programmi stabilizati elettronica. di sicurezza di sicurezza di sicurezza. Ma abbiamo anche visto, nel 1969, la nostra propria risultata di risultato di risultato, a un stand-by 24 ore ogni giorno, che, durante i anni, ha evaluato più di 1,500 risultati e le risultate di risultato. Questo ha profondito la nostra comprensione di risultati di risultato di risultato come risultato di risultati di risultati di risultato di risultato di risultato di risultato di risultato. Un terzo di tutti gli accidenti sono principalmente influenzati dal risultato di risultato di risultato. 10 persone possono essere entrambi nel risultato di risultato. e 9 di 10 accidenti, il fatto di risultato di risultato di risultato di risultato di risultato. Per questo è il motivo che siamo committati per aumentare il livello di informazione di risultato di risultato di risultato, le industrie, le autorità e la società come un ruolo. In questo contesto siamo molto orgogliosi di essere sposti del programma TSC e crediamo che la TSC ha fatto un ruolo molto importante come si, su una base scientifica, cerca di influenciare la società per un traffico più sicuro. Quindi, con queste parole grazie a tutti i ragazzi grazie al TSC e al host per tenermi qui oggi e ci vedo una discussione molto fruttiva e un seminario molto interessante. Grazie. Grazie al Dottor Lobianco. Adesso diamo la parola, sperando che azzecco la pronuncia, al Dottor Tjark Kreuzinger della Toyota Motor Europe. Buongiorno signore e signori. in inglese. It's a little easier for me. As you might see, I'm also, I'm not Italian. I am German. I'm Dottor Kreuzinger. I work at Toyota Motor Europe in Brussels. I'm an engineer, so I feel a little alien here. I might not be exactly like most here. so please forgive me if I sometimes might push a wrong button or might say something which sounds a little strange. Nevertheless, it is a pleasure that I have another chance to talk for one of these conferences. Thank you, Antonio. He sometimes invites me as one of the sponsors of ETSC and it's maybe the fifth time for me and it's always a pleasure looking at things from a different angle because it's not my everyday work. I am in charge of safety. I'm responsible for active and passive safety. And therefore, my world is normally driven by technology and effectiveness of systems. So this then is not so different from ETSC's approach which is one of the reasons why I like very much talking here. It's the scientific evidence. It's the numbers. It's the target setting. And therefore, this is a very important activity. And for another reason, this is very important to us. Can I continue? Thank you. The other reason why it is so good to be here is that it gives an opportunity to go beyond the core of my work which is the technology on the car. The second reason, the second thing that can improve road safety is infrastructure which is actually now the main driver for this has just arrived. Very good for infrastructure improvements and we need administrators. We need regulation and government for that. And the second is behavior. As Giovanni already mentioned, behavior of our customers, the population is a main driver in road safety. and this will hopefully help us to avoid this awful scenario that already the WHO, the World Health Organization, has said that by 2020, road fatalities will be number two reason for death in the world which is, of course, something that we have to do a lot to avoid. And to give an image, I was on a conference last week where researchers from India spoke and they said 130,000 fatalities with a population of just 1.3 billion. That would be equal in Europe to just an unacceptable high number. So these countries, maybe they are a little bit less developed in road safety, but they saw exactly the same problem. The same problem with road separation, bad behavior, inadequate safety technology on cars but also on the infrastructure. And especially in these countries, fatalities are vulnerable road users. That's still the case for us but there it's even more the case. 30% is including 20% pedestrian. In some countries, maybe a little bit more. And that means that these vulnerable, extremely vulnerable road users, they cannot even accept impact at speeds of just 20 km per hour. So at that speed, what you would like to do is you would like to completely avoid accidents. And how can you do that? You can do that, of course, with technology on cars. But please bear in mind, a lot of them are happening at night. More than 50% actually happen at night. That means that we cannot just leave it to the technology but we have to also involve the driver. One thing is very good visibility. One thing is very good technology on the car for visibility and road infrastructure separation. And also keep in mind that it's not the more difficult road conditions that pedestrian accidents happen. 80% happen on just plain straight road. The driver just does not react properly. The driver just does not take any action to avoid an impact. And that's what we can do a lot about. Awareness of drivers. Taking care the driver is doing his task, his or her task. So, if I might conclude now with reminding again, we have three things that we need to do. We have to make the technology. That's car makers' responsibility. There's also a need for improving infrastructure because that plays a very important role. We're incompatible car-pedestrian, don't even meet each other on the road. No accident will ever happen. And finally, what we need is also behaviour that must be driven by education to the society and also by regulation if necessary. Because sometimes it's necessary to create a mandatory behaviour rule. So, all this together is, I think, what is also ETSC core business. And I'm very happy that we can work together. and I think that this all will drive the safety on the road to our old benefit. So, I'm also looking forward to a nice discussion today and interesting talks. Thank you very much. Thank you, Dr. Kreuzinger. Nel ringraziarlo per la sua presenza in giornate così convulse per il Governo che denota anche una profonda sensibilità nei confronti di un tema quale la sicurezza stradale così come il Ministro in varie occasioni ha sottolineato. Io gli cedo la parola in modo che poi possa attendere i numerosi impegni che lo aspettano. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Saluto il Presidente Marzano, saluto tutti voi e ringrazio dell'invito che mi è stato rivolto. Come ha detto il Dottor Guidoni, volevo essere presente almeno nella parte iniziale di questo importantissimo convegno perché a volte più che le parole contano i fatti e contano anche i segni e la presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ad un convegno così importante e qualificato sul tema della sicurezza stradale dice una e se non la priorità che questo Ministero deve avere. La sicurezza stradale è, sin dall'inizio dell'insediamento di questo Governo e nell'atto della relazione fatta alle Camere appunto da me quando il Governo si è insediato, uno dei punti prioritari e fondamentali. E fate bene oggi a confrontarvi, a discutere sul raggiungimento dell'obiettivo che l'Europa si è posto del 50% della diminuzione appunto degli incidenti mortali, stradali che avvengono. Come deve avvenire questa diminuzione? L'Italia su questa strada ha fatto passi da giganti, i dati sono sotto gli occhi di tutti e forse anche per una volta siamo, diciamo, con orgoglio all'avanguardia riguardo all'azione preventiva che tutti noi possiamo fare. Come può avvenire questo raggiungimento dell'obiettivo? Ho sentito le ultime battute dell'intervento che mi ha preceduto e già toccava le due grandi pilastri, le due grandi questioni che dobbiamo affrontare per poter raggiungere l'obiettivo. Il primo, e su questo l'Italia ha introdotto un modello a cui tutta l'Europa ci ha guardato. È evidente che la prima cosa che possiamo fare, e abbiamo i dati oggettivi che sperimentano questo, è che gli investimenti in infrastrutture, la qualità delle nostre strade, delle nostre reti infrastrutturali, strade, autostrade, incide in maniera oggettiva sul tasso di incidentalità. È un dato che più miglioriamo le nostre infrastrutture più diminuisce il rischio dell'incidentalità sulle nostre strade. Non è l'elemento fondamentale, è il primo elemento da cui partire. Noi abbiamo un indice ormai storico, statistico, che migliorare la rete stradale, la rete infrastrutturale nel nostro Paese porta di per sé a una diminuzione del 10% della potenzialità delle cause incidentali. Allora, investire in infrastrutture non è solo una politica industriale, non è una politica solo di sviluppo di un Paese, che è uno dei temi essenziali che noi ci siamo dati come priorità, ma ha cascata una conseguenza che lega anche l'obiettivo di cui stiamo discutendo. non è solo però la realizzazione delle nuove infrastrutture, ma è il grande tema della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture che oggi sono esistenti. Siccome noi abbiamo una grande sfida a passare dalla parola ai fatti, il segnale che dovevamo dare e potevamo obbligatoriamente dare era quello che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre strade, dei nostri ponti, dei nostri viadotti, eccetera, ritornasse ad essere una priorità di un'azione di governo. Nel decreto del fare trovate all'articolo 18,10 per la prima volta dopo tanto tempo un rientro, un ritorno ad una priorità che diventa strategica. 300 milioni di euro dati alla manutenzione ordinaria e straordinaria ad ANAS per fare bandi immediatamente aveva il doppio scopo, rimettere in moto l'economia perché sono investimenti che arrivano immediatamente sul territorio, ma il principale scopo era che se non seguiamo questa strada rischiamo poi di dover sempre discutere di sicurezza stradale solo quando avvengono le tragedie e i drammi nel nostro Paese. Quindi il primo pilastro è certamente questo. Non può essere l'unico pilastro e non può essere neanche l'intervento che assolutamente dà l'effetto maggioritario alla diminuzione degli incidenti. Perché se guardiamo la storia dell'Italia il secondo grande pilastro è stato esattamente il tema della educazione, della prevenzione di un segnale che un Paese dà attraverso le sue leggi ad obiettivi che vuole raggiungere. L'introduzione della patente a punti è stato uno degli elementi che immediatamente ha prodotto nel nostro Paese nel tempo, siamo a dieci anni dall'introduzione della patente a punti in Italia, ha improdotto immediatamente un calo radicale e drastico degli incidenti, in particolare poi quelli mortali nel nostro Paese. Che cosa vuol dire? Che il tema dell'educazione, il tema della prevenzione, il tema della formazione diventa la sfida principale. Cioè mentre lavoriamo sull'adeguamento infrastrutturale noi dobbiamo assolutamente pensare che non sono solo gli investimenti che aiutano, non sono solo le leggi che aiutano a raggiungere gli obiettivi ma sono le leggi che indicano educativamente ad un Paese quali sono i modelli comportamentali. L'applicazione quindi di leggi che vadano in questa direzione dà un segnale fondamentale. E allora anche qui seguire la strada che abbiamo indicato rapidamente e urgentemente, quindi prima strada, investimenti in infrastrutture, che sono realizzazione di nuove reti che siano sempre più moderne, realizzazione di manutenzione ordinaria e straordinaria che porti alla sicurezza delle reti dove si viaggia. Il secondo, proseguire nella strada che è la formazione, l'educazione, la prevenzione attraverso leggi che indichino questi parametri è la strada da percorrere come seconda strada fondamentale. E su questo l'abbiamo indicato attraverso un segnale urgente da dare per la riforma del codice della strada in Italia. Abbiamo chiesto una legge delega, siamo d'accordo con le commissioni di Camera e Senato che questa è... abbiamo chiesto l'urgenza per questa legge delega. Siamo d'accordo con il Camera e Senato che ci debba essere data una corsia preferenziale perché si vada, saluto il Presidente, stavo parlando esattamente del dialogo che abbiamo avuto ieri con il Presidente della Commissione Trasporti della Camera e cioè di affidare assolutamente una corsia preferenziale e prioritaria alla riforma del codice della strada. perché anche qui intervenire in termini di prevenzione, educazione, punizione per i recidivi ma dall'altra valorizzazione dei comportamenti positivi è la strada che abbiamo da percorrere. Non è che possiamo fare altro. Non possiamo pensare che la legge o il codice e le norme che facciamo siano vessatorie. Dobbiamo pensare che le leggi e le norme che facciamo sono parametri educativi a cui i nostri cittadini possono e con cui i nostri cittadini possono avere come punto di riferimento. Se hai comportamenti positivi devi essere premiato, se sei un recidivo o hai comportamenti che provocano atti molto gravi devi essere invece, tra virgolette, punito. In un principio fondamentale che vale ovviamente tanto più per l'Italia è che non possiamo pensare che l'unico modello che può cambiare, l'unica azione che può cambiare modelli comportamentali e affidare alla legge e magari in particolare alla legge che si sposta dal reato amministrativo al reato penale la possibilità che tutto cambi. È il più grave errore che un Paese possa compiere. Nel senso che dobbiamo individuare i reati più gravi e su quello, per esempio, la discussione che faremo sarà certamente sul reato legato appunto all'incidente mortale, all'omicidio ovviamente che avviene con non più un dolo ma una colpa grave, nel senso che se io sono un autista che sono cosciente che non ho la patente, sono cosciente che coscientemente mi metto al volante e sono ubriaco, mi metto al volante e sono magari sotto l'influenza di stupefacenti eccetera, e sono quindi cosciente del rischio che posso apportare al mio concittadino, è evidente che qui non siamo più sul doloso, ma dobbiamo trasformarci in un atto che deve essere riconosciuto assolutamente colposo. Quindi individuare i reati più gravi, punire le recidive, valorizzare invece i comportamenti virtuosi, evitare gli elementi vessatori nei confronti del cittadino, perché la vessazione poi non porta ad un comportamento virtuoso ed educativo, ma a una ribellione che non ha nessuna logica in uno stato come il nostro. Questi alcuni elementi, ovviamente dei principi che con la Camera dei Deputati e il Parlamento stiamo valutando, così come ovviamente la tutela degli utenti più deboli, l'adeguamento delle infrastrutture anche a nuove tipologie che si sono sviluppate in questi anni, anche riguardo a una cultura diversa, pensiamo ai ciclisti e ai motociclisti e pensiamo a quanto le nostre infrastrutture non sono adeguate a questo tipo di categoria, solo il tema del warrail, sono pensati negli anni e sono sempre stati pensati, ovviamente per una tipologia di utenti prevalentemente legata all'uso dell'automobile. E oggi quelle tipologie infrastrutturali sono assolutamente pericolose nei confronti invece di un aumento e di uno sviluppo di categorie di utenti, che noi consideriamo i cosiddetti utenti deboli, che hanno la necessità di essere anche protetti da un punto di vista della rete infrastrutturale, quindi pensiamo alle barriere, eccetera, eccetera. Allora, questa seconda area è certamente un'area fondamentale e la semplificazione, la sburocratizzazione, la certezza dell'attuazione della, tra virgolette, della pena, sia quella amministrativa che quella penale, laddove ovviamente si dovesse ricorrere, sono elementi e principi assolutamente fondamentali, così come l'efficacia e l'efficienza di tutte le norme che noi facciamo. Il terzo elemento su cui dobbiamo lavorare, quindi il primo, sono investimenti infrastrutturali. Il Paese deve ritornare a investire in infrastrutture, deve ritornare a investire in infrastrutture dando risorse chiare e certe, perché queste contribuiscono allo sviluppo, ma perché questa realizzazione contribuisce a migliorare l'efficienza della nostra rete e a tutelare sempre di più l'utente che va sulla rete. Secondo pilastro la questione educativa comportamentale, legata ovviamente a una legge che è sempre un modello educativo, riforma del codice della strada, con questi principi. Riforma rapida e urgente. Noi ci siamo dati delle scadenze molto anche sfidanti per la pubblica amministrazione e per un Paese come l'Italia. Speriamo che col Parlamento si riesca a dimostrare che se vuole il Parlamento può approvare leggi non in anni ma in mesi e se vuole un governo può attuare i decreti ovviamente attuativi di quelle leggi deleghe non in anni ma in mesi. Questa sarà la sfida che abbiamo davanti e sono convinto che la vinceremo con semplificazione e sburocratizzazione. La terza questione, e concludo, è un dato che purtroppo è emerso in maniera assolutamente drammatica dopo dell'occasione anche per ricordare ovviamente le vittime di quel tragico incidente dopo quello che è accaduto non tantissimi mesi fa ma praticamente solo quasi un mese fa, più di un mese fa, ad Ariano Irpino. Perché per noi quello è stato il più grave incidente della storia del nostro Paese. 40 vittime nella modalità con cui questo è avvenuto. Ovviamente le indagini sono in corso ma noi ci siamo già fatti un quadro di riferimento sulle cause che hanno portato a quel drammatico incidente. Certamente l'imprevedibilità eccetera ma se un Paese responsabile non può individuare attraverso un dramma come quello che è accaduto le questioni che vanno affrontate. La prima che è emersa in maniera molto chiara e abbiamo anche qui l'obbligo morale e politico di affrontare questo punto. Noi abbiamo 95.000 veicoli che viaggiano nel nostro Paese che si occupano tra virgolette di trasporto pubblico. Tra virgolette nel senso che questi veicoli possono appartenere nella tipologia dei veicoli ovviamente della gestione che appartiene al pubblico e poi ci sono ovviamente, sono 50.000 quelli del trasporto pubblico locale e 26.000, quasi 27.000 di privati che gestiscono il trasporto pubblico. Qui il tema della sicurezza è un tema assolutamente ancora più importante perché affidi alla responsabilità di trasportare persone ad un soggetto. Il dato che è emerso in maniera drammatica è che l'età media dei veicoli che circolano nel nostro Paese è di 12 anni. La media in Europa è di 7 anni. Se addirittura andiamo ad identificare elementi anche di impatto ambientale noi vediamo che i veicoli tra Euro 0 e Euro 1 che circolano ancora nel nostro Paese sono il 25%. Se addirittura allarghiamo la fascia sotto l'Euro 4 siamo quasi al 75-80%. Unendo questi due elementi, se la media è 12 anni è evidente che tutti noi possiamo constatare quel Pullman aveva 18 anni e aveva dichiarato ufficialmente un milione e 950 mila, io continuo a dire ufficialmente poi ognuno di noi ha il buon senso di capire che cosa vuol dire perché un milione di chilometri in 18 anni per un Pullman che deve fare trasporto pubblico vuol dire che c'è qualcosa che anche lì non andava. Allora, questo quadro della situazione deve ritornare a farci investire risorse intelligenti per il rinnovo del parco dei mezzi che noi abbiamo nel nostro Paese che si occupano del trasporto pubblico locale e anche ovviamente del trasporto privato, cioè gestito da privati. Gli strumenti ci sono, una legge del 2003 aveva affidato alle regioni quella di identificare le modalità con cui questo aggiornamento del parco mezzi pubblico o privato ma che si occupa di trasporto pubblico poteva avvenire è evidente che è accaduto una cosa, come sempre accade nel Paese che alcune regioni hanno definito i parametri e i criteri altri regioni non l'hanno definito, è successo io colgo l'occasione di questo convegno e concludo per denunciare questa cosa ma per sensibilizzare al fatto che dobbiamo tutti intervenire su questo tema per cui addirittura abbiamo, come era accaduto quando la Germania aveva deciso che nel proprio Paese non potevano più circolare veicoli con immediatamente, oltre dieci anni, mezzi pubblici non potevano andare che cosa è successo? Lì si è rinnovato il parco mezzi e tutti quei mezzi andavano negli altri Paesi, no? Ecco, stessa cosa è avvenuto dal 2003 ad oggi all'interno delle diverse legislazioni di tipo regionale questo è un tema su cui il Paese e l'autorità centrale deve intervenire, quindi una legge nazionale deve iniziare a regolamentare in maniera chiara, netta e forte assumendoci la responsabilità che nel corso di un piano quinquennale quadriennale o quinquennale noi dobbiamo adeguarci all'Europa è evidente tra l'altro gli effetti positivi che ha sul tema della sicurezza e gli effetti positivi che questo ha, perché siamo al CNE sul piano dello sviluppo economico e dell'incentivo che può avere sullo sviluppo economico l'altro aspetto di quell'incidente su cui noi stiamo lavorando con IVCA con la sicurezza, il nostro ufficio della direzione della sicurezza stradale tutti i soggetti, vedo qui il Dottor Dondolini eccetera è certamente il tema delle barriere e ritorniamo ovviamente al punto iniziale ecco, io ho cercato di fotografare le tre questioni che noi abbiamo sul tavolo entrambe le questioni implicano innanzitutto volontà politica secondo, assunzione di responsabilità terzo, se li si identifica come priorità destinazione di risorse queste non ci si muove se non all'interno di questo perimetro e un paese tanto più a una sfida drammatica come quella che ha davanti di uscire dalla crisi deve iniziare a darsi delle priorità e darsi delle priorità vuol dire assumere decisioni coraggiose decidere come destinare le sue risorse e lavorare nel contesto europeo perché noi stiamo discutendo di un contesto europeo dove anche su queste priorità si possa essere aiutati a valorizzare e a mettere delle risorse che con certezza devono essere spese nel miglior modo possibile ecco, spero di aver dato un contributo non formale ma sostanziale all'introduzione a questo convegno è chiaro che i risultati saranno risultati che anche il ministero so che rimarranno appunto i nostri massimi dirigenti e collaboreranno e si confronteranno con voi anche con i presidenti delle commissioni parlamentari credo che questa sfida sia una sfida da vincere tutti insieme perché poi alla fine ciò che interessa una legge e in particolare interessa il paese è di servire chi è il protagonista di un paese noi tutti siamo al servizio di chi è il protagonista di un paese che sono i cittadini e che i cittadini sono persone e la dignità delle persone la loro libertà, la possibilità di muoversi con sicurezza deve essere il punto di riferimento ovviamente che deve vedere l'azione di qualsiasi soggetto pubblico che si impegna in questa grandissima opera che è un'opera anche affascinante grazie di cuore e buon lavoro ringrazio il ministro quindi non solo per la presenza ma anche per la chiarezza e per aver fornito una ricetta direi anche appassionata oltre che tecnica grazie do il benvenuto all'onorevole Meta presidente della commissione dei trasporti della camera e do la parola al presidente della fondazione Ania il dottor Aldo Minucci il momento di saluto ci saranno poi i preziosi interventi di Guidoni e di Focarelli che rappresenteranno le tematiche tecniche che coinvolgono Fondazione e Ania Presidente, autorità, gentili ospiti ringrazio tutti per la partecipazione a questo evento internazionale sulla sicurezza stradale che insieme a ETSC abbiamo voluto fosse organizzato in Italia dal momento che riteniamo opportuno che nel nostro paese si torni a parlare con autorevolezza di sicurezza stradale io credo che gli interventi ma soprattutto l'intervento del signor Ministro Lupi che ci ha onorato con la sua presenza dia un alto contributo a discorsi seri, concreti ed efficaci che rimettono al centro dell'attenzione il tema della sicurezza a breve conosceremo la situazione che si registra sulle strade europee ma è già noto che sia in Italia che in Europa in questi anni l'incidentalità stradale ha subito un'importante battuta d'arresto per quanto riguarda il nostro paese come settore assicurativo siamo orgogliosi dei risultati conseguiti a cui riteniamo di aver significativamente contribuito in virtù delle numerose iniziative e degli importanti investimenti realizzati in questi anni di attività da parte della Fondazione Ania per la sicurezza stradale non posso non ricordare i grandi e importanti contributi che si sono stati forniti anche nel nostro lavoro quotidiano dalle istituzioni pubbliche sia dalla polizia stradale dalle università dalle istituzioni pubbliche e territoriali che hanno intrapreso iniziative significative per aumentare il livello della sicurezza stradale nel nostro paese siamo tuttavia consapevoli del fatto che è necessario continuare ad operare con incessante motivazione per consolidare e per migliorare questo risultato e questo è anche il nostro impegno per i prossimi anni ma per ottenere obiettivi ancora più ambiziosi bisogna fare sistema unire le forze e soprattutto sostenere le istituzioni affinché il tema della sicurezza stradale costituisca una priorità nel dibattito politico solo così possiamo raggiungere il nostro obiettivo europeo del 2020 con questo non intendo dire che le istituzioni nonostante la grave crisi economica che hanno dovuto franteggiare in questi ultimi anni non abbiano varato provvedimenti importanti anzi a loro va il nostro riconoscimento per aver promulgato una legge come la 120 del 2010 che ha introdotto norme decisamente innovative anche rispetto al quadro europeo come per esempio quella relativa al tasso alcolemico zero per neopatentati e guidatori professionali una norma i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti ma non posso non sottolineare che è mancata la spinta necessaria per varare una vera e propria riforma del codice della strada nel senso di una sua radicale semplificazione che porti a distinguere le norme relative ai comportamenti da quelle puramente tecniche una riforma da tanti annunciata da tutti auspicata ma ancora da realizzare pur essendo non più rinviabile in considerazione del fatto che la voluminosità e la complessità delle norme attualmente previste non consentono agli utenti della strada una conoscenza chiara sotto questo profilo apprezzo vivamente l'iniziativa del Ministro Lupi di procedere in questa direzione e mi auguro che l'iter di approvazione possa essere compiuti in tempi se non rapidi contenuti convinto come sono che la chiarezza della norma rappresenta un tassello fondamentale per la diffusione di una cultura del rispetto delle regole mi sembra importante quello che ha detto il Ministro in questa sede puntando come secondo elemento dei tre strutturali per un approccio sistematico al problema della sicurezza il tema della formazione dell'informazione che passa attraverso anche fondamentalmente una semplificazione del codice della strada sul fronte internazionale non possiamo non evidenziare che sono state intraprese molte iniziative virtuose che hanno consentito di aumentare l'attenzione sulla sicurezza stradale a questi fini sono convinto che si otterrebbero risultati più significativi se l'UE esercitasse con più forza e determinazione un'azione politica di omogenizzazione delle norme che regolano nei diversi paesi la circolazione è evidente che l'abbattimento della frontiera tra i paesi della UE ha rappresenzato senz'altro uno dei momenti più importanti nel processo di integrazione comunitaria ma la realtà dello spazio comune non si può dire ancora concretamente raggiunta se non si realizza un sistema di regole unitario un territorio comune deve infatti prevedere regole di circolazione comuni stessi limiti per l'alcol sanzionabilità per la guida con il cellulare e l'alta velocità a prescindere dalla residenza del guidatore viaggiando da un paese ad un altro invece ci sono oggi troppo differenze perché non solo esistono regole diverse ma non ne viene neanche favorita la conoscenza reciproca da parte degli utenti della strada l'auspicio è quindi che i progressi fatti proseguano con maggiore velocità e siano arrecchite da visioni strategiche più ampie per la soluzione delle comuni criticità l'incidentalità stradale è nelle dimensioni e nella conseguenza un problema di natura etica ma che ha profonde conseguenze economiche le migliaia di vite spezzate rappresentano una perdita immensa per chi la subisce e per la società nel suo insieme al dolore che non apprezzo si associa all'impatto economico di un fenomeno che oggi costa alle casse dello stato italiano 28 miliardi di euro una cifra enorme che si può cercare di contenere strutturalmente solo unendo l'impegno delle forze politiche istituzionali a quello della società civile dell'imprenditoria e della collettività tutta mi sembra importante ripetere anche qui quello che ha detto il ministro come una della prima priorità è l'intervento di interventi di rinnovamento e di manutenzione delle nostre strade ma in questo contesto mi sembra anche importante il richiamo che noi facciamo al concorso che può venire dalla società civile dalla stessa imprenditoria che può legare un'attività di sponsorizzazione elementi di cambiamento e di miglioramento per esempio dei black point che ci sono nel nostro paese che sono una delle cause fondamentali che incidono sul sistema dell'incidentalità pertanto appuntamenti come questo sono molto importanti non solo perché ci permettono di approfondire il tema di scambiare buone pratiche di darci nuovi obiettivi ma anche perché evidenziano il lavoro dei singoli la necessità di un'azione di coordinamento chiara e definita in grado di fornire una guida agli addetti ai lavori ai singoli cittadini ai media alle istituzioni nazionali e locali malgrado l'impegno profuso e nonostante i miglioramenti conseguiti ci sono ancora troppi morti e feriti un bollettino di guerra ogni giorno è una guerra invisibile però con morti e feriti reali le nostre strade devono tornare ad essere uno strumento di incontro e di sviluppo e non di pericolo e di dolore perché la strada è il viaggio e conseguentemente è vita buon convegno a tutti e grazie per la vostra attenzione la fondazione ania ringrazio il presidente per l'intervento e ne approfitto per dire insomma che la fondazione ania ha una tradizione ormai decennale di rapporti e di collaborazione con una delle forze più importanti nella lotta all'incidentalità stradale che è appunto la polizia la polizia stradale noi ci pregiamo di avere questo rapporto privilegiato che ha consentito negli anni di realizzare iniziative importanti e che ha introdotto anche dei modelli comportamentali che esistevano magari nel resto d'Europa ma non ancora in Italia per questo siamo onorati non solo di fare le congratulazioni al nuovo capo della polizia stradale il dottor Giuseppe Bisogno ma anche di averlo nella prima occasione pubblica qui e per questo lo invitiamo a fare un saluto a tutti buongiorno a tutti un saluto affettuoso ovviamente saluto innanzitutto il padrone di casa il presidente professore Antonio Marzano e lo ringrazio in primo luogo per le espressioni augurali rivoltemi ma anche per le lucide e profonde considerazioni introduttive chiaramente sono assolutamente entusiasta della presenza sia pure appunto introduttiva e delle riflessioni fatte dal signor Ministro Lupi che ci ha indicato che ci ha indicato alcune direttrici che possono essere sicuramente oggetto di approfondimento ma dimostra soprattutto la sua presenza la sensibilità del governo ringrazio e saluto il presidente della commissione trasporti l'onorevole e l'onorevole Michele Meta e del tutto evidente anche la sua presenza significa quanta attenzione c'è da parte di tutte le nostre istituzioni verso questa tematica così delicata così complessa la sicurezza stradale e chiaramente il mio è un saluto per ovvi motivi il primo perché da neo direttore del servizio polizia stradale devo ascoltare, devo conoscere, devo apprendere e quindi contributi professionali in questo momento non credo di poterne dare a tal fine quindi desidero ringraziare il presidente della fondazione Ania per avermi invitato a partecipare a questo convegno che segna come abbiamo detto più volte il mio debutto in questa cornice così prestigiosa come direttore del servizio polizia stradale uno dei primi argomenti che i miei più stretti collaboratori hanno posto in evidenza all'indomani del mio insediamento che è avvenuto il 9 settembre quindi siamo a 10 giorni da oggi è proprio quello della proficua e solida alleanza della polizia stradale con la fondazione delle imbrese di assicurazione alleanza che ha dato vita a progettualità concrete ed innovative nel segno della prevenzione sulle strade ritengo assolutamente che la mia gestione debba essere nel segno della continuità e questo non per pigrizia ma per l'intima convinzione dell'importanza del partenariato pubblico privato e della necessità assoluta indifferibile di fare rete per moltiplicare l'efficacia degli sforzi di ciascuno per chi come me ha iniziato il proprio percorso professionale proprio nelle fila della polizia stradale vi confesso che sono tornato nella polizia stradale dopo 21 anni nel 1992 lasciai la responsabilità di capo della polizia stradale a livello provinciale e 10 giorni fa quindi dopo 21 anni esatti l'ho assunta questa responsabilità a livello nazionale e quindi vi confesso che è per me un orgoglio e un privilegio trovarmi oggi al vertice di un settore specializzato della polizia di stato che da 65 anni sono 65 anni che esiste la nostra polizia stradale identifica la sua mission nella sicurezza stradale per coniugare il diritto alla mobilità con la tutela della vita e se vogliamo prendendo quindi spunto dalle lucide riflessioni del professor Marzano con la qualità della vita vi confesso che ho tratto incoraggiamento in quello che è il mio percorso futuro dalla relazione, dal contenuto della relazione del ministro Lupi perché nella sua disamina ho riascoltato i tre fattori che mi insegnarono una trentina d'anni fa allorquando sedevo sui banchi del centro di addestramento di polizia stradale di Cesena e allora ho tratto coraggio perché i fattori sono sempre tre sono la strada, l'uomo ed il veicolo quindi ho detto forse partendo da lì ovviamente con tutto ciò che è accaduto in trent'anni è questa sempre la direttrice di marcia sotto questo aspetto mi permetto di sottolineare che evidentemente ancora di più in una società come la nostra è necessario che i progressi di intervento su questi tre fattori siano perfettamente sintonizzati mi compiaccio veramente in maniera sincera con gli organizzatori per la qualità dei relatori ed il respiro europeo dei lavori che inquadrano il problema della sicurezza stradale nella giusta dimensione trasnazionale che la polizia stradale tiene nella massima considerazione anche con la convinta adesione a TSPOL quale network delle polizie stradali in Europa il confronto di oggi passa necessariamente per quelle sette regole che la commissione europea ha voluto con grande lucidità fissare per il raggiungimento del dimezzamento degli incidenti entro il 2020 e se la polizia stradale non si occupa di strade, di cartelli o della sicurezza dei veicoli si farà carico di tutti quegli obiettivi che fanno leva sul comportamento umano o sugli strumenti normativi o tecnologici che possono incidere positivamente sulla guida dall'educazione del conducente alla protezione degli utenti deboli al potenziamento della tecnologia al contributo per il miglioramento della normativa auguro a tutti buon lavoro non prima di aver nuovamente sottolineato ci tengo molto la mia soddisfazione a far parte di questa grande squadra dove ciascuno ha un ruolo fondamentale e dove tutti puntiamo a quel goal che significa vita e sicurezza grazie e buon lavoro grazie ringrazio il dottor Bisogno facendogli un ulteriore in bocca al lupo e ringraziandolo soprattutto perché ha scelto come debutto il nostro convegno avremo modo di definire una strategia nelle prossime settimane a questo punto io lascerei il testimone e il posto il testimone al professor Tira e il posto ai relatori che proseguiranno l'attività del convegno grazie 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 buongiorno a tutti possiamo continuare quei lavori annunciando due piccole modifiche nel programma l'onorevole Michele Metta presidente della commissione trasporti della camera dovrà assentarsi per una votazione e quindi lo spostiamo al primo posto negli interventi e invece il senatore Altero Matteoli presidente della commissione trasporti del senato non potrà intervenire queste sono le due piccole variazioni della sessione di ora io sono Maurizio Tira sono il presidente del centro studi città mica che citava Antonio Venoso il primo partner italiano di ITSC dal 99 e con cui abbiamo sempre collaborato per cercare di portare avanti il tema della sicurezza stradale in Italia anche anni fa quando la tematica era un pochettino meno sentita vengo da una città di medie dimensioni ma che ha pure fatto molto sul tema della sicurezza stradale e mi permetto di fare solo una piccolissima come dire aggiunta prima di dare parola agli illustri relatori della sessione sul fatto che dobbiamo è stato dentro anche dal presidente Marzano e dal ministro dobbiamo sicuramente credo far capire a tutti i livelli anche le piccole comunità locali che malgrado nel parlamento si parli soltanto o sembra almeno di questioni direttamente di tassazione di IMU e così via il tema della sicurezza stradale ha delle pesantissime repercussioni dal punto di vista economico sia perché le vittime e soprattutto i feriti sono un costo enorme per la società quindi se facciamo dell'analisi costi benefici sono ampiamente positive nel fare interventi c'è una letteratura sterminata sulle low cost safety measures si spende poco e si ottiene tantissimo e vanno applicate nei piccoli centri fin anche nei piccoli centri sì anche perché vi sono anche possibilità di lavoro nel tema della sicurezza stradale per esempio in Italia ed è un tema che potrebbe anche contribuire a risolvere un po' il problema del trasporto pubblico non sulla vetustà dei mezzi ma perlomeno sulla capacità e qualità dei conduttori introdurre l'alcool lock come ha fatto la Svezia che semplicemente mettendo la clausola che nei bandi per gli appalti pubblici bisogna montare l'alcool lock sui mezzi hanno visto in pochi anni salire 70.000 impianti installati questo potrebbe generare una ricerca potrebbe generare una produzione industriale come i safer car fronts in tutta l'industria automobilistica nell'indotto che c'è nella regione dove vivo io fra l'altro nella provincia di Brescia l'ultima cosa poiché io sono un ingegnere ambientale ma un urbanista di professione principale ricorderei anche che nel tema della sicurezza dobbiamo pensare alle città del futuro a quelle che ci aspettano in Italia e le città del futuro probabilmente non si espanderanno molto quindi dovremmo lavorare tantissimo sulla riquilificazione di quello che c'è e qui Etherworld è una di quelle che hanno introdotto questo tema in Inghilterra l'urban safety management cioè la gestione della città complessivamente in cui la sicurezza è uno degli elementi che è influenzato anche dalla pianificazione urbanistica per esempio credo che sia un approccio che dobbiamo assolutamente tenere presente quando si disegna la città bisogna tenere presente la sicurezza non solo intervenire a riparare scusatemi questa digressione che ho fatto legato un pochettino al mio background ora do la parola quindi a Michele Meta che è presidente della commissione dei trasporti della camera dei deputati per il suo intervento grazie grazie a lei e volevo non in modo formale apprezzare lo sforzo degli organizzatori dell'iniziativa odierna mi pare che ascoltando il ministro Lupi e anche conoscendo le relazioni del ministero e degli altri addetti credo che questo rappresenti un contributo oggettivo in un passaggio decisivo noi gli addetti ai lavori lo sanno con capabilità quasi con ossessione e nonostante il clima politico e le agibilità relative abbiamo riaperto in Parlamento il cantiere della sicurezza stradale e lo abbiamo fatto questa volta diciamo all'interno di una solidarietà e anche di una collaborazione tra i diversi protagonisti, i diversi attori della sicurezza stradale ora io sono ottimista alle condizioni di oggi se non ci dovessero essere interruzioni brusche della legislatura credo che noi insomma da qui a un anno potremmo avere delle novità rilevanti radicali sul piano anche della norma e non solo io voglio dire subito che insomma quando ci siamo insediati qualche mese fa il primo provvedimento che abbiamo depositato era la riforma organica del codice ed è una cosa straordinariamente positiva che si è aperta una competizione molto sana con il governo, il ministero prima dell'estate il ministero con un provvedimento proprio ha parlato di delega nelle prossime ore noi avvieremo il ragionamento sul nuovo codice e daremo al governo un tempo sufficientemente necessario per costruire un prodotto anche legislativo davvero moderno e che guardi all'Europa abbiamo lavorato come si sa negli ultimi anni a fronte anche di risultati straordinari alcuni altri un po' meno il modo di intervenire spesso sull'onda dell'emozione è stato quello di sovrapporre strade di norme alle vecchie norme noi abbiamo un codice di 300 norme non è possibile bisogna semplificare il mondo è cambiato le novità sono rilevanti la sicurezza è un grande tema non solo etico morale ma anche un tema economico si ricordava prima siamo intorno per quanto concerne le spese a un punto e mezzo del PIL e pertanto sicurezza stradale le risorse che si mettono lì sono un grande investimento abbiamo bisogno proprio allora per far questo non basta più dalla patente appunti in poi abbiamo avuto grandi risultati intervenire una volta una tanto ma bisogna rifare la costituzione della sicurezza stradale la legge fondamentale e anche qui io penso che che per riformare la costituzione la parte seconda ci vogliono 18 mesi compresi i saggi per riformare il codice della strada possiamo anche in tempi di accelerazione pensare che con sei mesi massimo un anno ci si può fare questo è il mio pensiero è il pensiero della commissione questo sarà un paletto che daremo al governo perché ripeto il cantiere si sta aprendo in queste ore il governo ha preso i provvedimenti a fine luglio inizi di agosto ci hanno trasferito il testo noi abbiamo bloccato la discussione sul nostro testo andremo ad una unificazione veloce e si aprirà questo cantiere ne abbiamo davvero bisogno guardate perché è una riforma organica che come dire salvi i punti alti dell'esperienza fatta fin qui ma una riforma che semplifichi separi il codice in più parti distingua appunto come diceva il comandante della polstrada i comportamenti scorretti alla guida l'altra parte relativa agli attori protagonisti dalle forze dell'ordine ai proprietari delle strade alle manutenzioni ai materiali al sistema degli enti locali abbiamo bisogno di questo anche per responsabilizzare collettivamente abbiamo bisogno anche di guardare all'Europa nel mentre però non bisogna rimanere fermi non bisogna rimanere fermi e non bisogna pensare che miracolosamente da una delega poi si risolvono tutti i problemi io dico che abbiamo fatto bene a risottoscrivere gli obiettivi dell'ONU da qui al 2020 2010 li abbiamo falliti però dei passi in avanti li abbiamo fatti erano circa 7000 i morti quando abbiamo sottoscritto quell'impegno sono ancora tanti ma sono 3700 noi dobbiamo tendere in sette anni a dimezzare ulteriormente ce la possiamo fare perché davvero mi pare che è cresciuta una consapevolezza una cultura si stanno cambiando anche le abitudini spesso grazie agli elementi repressivi ma spesso anche grazie alla combinazione di queste leve con le leve della formazione della sensibilità di una nuova cultura dobbiamo ecco per questa grande battaglia di civiltà lavorare in modo intenso in questa fase guai ad abbassare la guardia io lo voglio dire insomma noi abbiamo avuto negli ultimi mesi diciamo una tendenza a riaccendersi di alcuni fenomeni c'è il tema delle risorse io penso anche a legislazione immariata se non si aumentano i controlli non si hanno risultati perché non è possibile che nel nostro paese si fanno 900.000 controlli all'anno in paese europei più o meno hanno le stesse norme le stesse condizioni geopolitiche fisiche eccetera i controlli sono alcuni milioni 6-7 milioni come la Germania questo è un punto da affrontare anche in una fase ripeto di crisi economica perché li ritengo grandi investimenti lo abbiamo detto lo hanno spiegato le fondazioni come la vostra abbiamo bisogno in questa fase di transizione verso le riforme organiche non abbassare la guardia come pure c'è bisogno come abbiamo rilevato di manifestare solidarietà e attenzione rispetto a quelli che sono i punti deboli del sistema pedoni ciclisti mondo delle due ruote abbiamo bisogno in questa fase di transizione verso la riforma organica di scrivere una sorta di patto di collaborazione di solidarietà enti locali sistema locale il governo tutti gli altri attori c'è bisogno di questo perché se alziamo il tiro noi possiamo aiutare il legislatore a comporre una norma moderna europea una norma che consolidi verso quell'obiettivo di civiltà i risultati che vogliamo proseguire io davvero sono ottimista perché la collaborazione che c'è tra parlamento e governo in una fase anomala come questa su questo tema è cosa straordinaria infine noi abbiamo fatto tante audizioni il prodotto del legislatore è diciamo è stato contaminato positivamente questa collaborazione questo sentirsi reciprocamente bisogna che noi lo aumentiamo noi pensiamo diciamo nelle prossime settimane di rifare un ciclo di audizioni molto rapide 30 30 audizioni prima appunto di mettere i paletti al governo per quanto concerne la legge delega paletti significa le direttrici intorno alle quali il governo in sei mesi dovrà lavorare e poi essere lì a vigilare attentamente perché su impegni presi si giunga a conclusione poi io voglio non aggiungo altro in questa sede l'ho scelto ci sono tanti altri temi insomma nei dintorni del codice lo abbiamo visto non voglio parlare di ciclabilità non voglio parlare di alcune esperienze che si stanno facendo non voglio raccogliere le suggestioni del dottor Tira appunto su la vivibilità la pianificazione dei sistemi urbani sulle città non del futuro sulle città che un tempo la migliore urbanistica definiva le città a misura d'uomo cose che non voglio allungare i tempi ma colgo solo quest'occasione per dire che al di là del codice noi vogliamo intervenire su alcuni fenomeni incredibili questo dell'elusione delle polizze assicurative RC auto io ho depositato non l'ho detto ancora al ministro che vogliamo fare una cosa del parlamento in sede legislativa una proposta di legge molto chiara e molto innovativa che al di là dei numeri impressionanti diciamo si calcola ci sono circa 3 milioni i mezzi che circolano privi di assicurazione questo provoca diciamo danni incredibili ed un'incertezza sul diritto che ha poche uguali al precedente ecco noi vogliamo intervenire su questo e lo facciamo all'atere del codice perché è davvero una prima grande emergenza io siccome non è stato pubblicato e l'ho depositato 15 giorni fa qui c'è il testo ma per correttezza istituzionale non ve lo lascio sarà pubblicato nei prossimi giorni dai servizi parlamentari lo leggerete sui siti e su questo io credo che noi dobbiamo agire con grande celerità perché non tutto può andare dentro al codice il codice come dire leggi fondamentali va riorganizzato non potranno essere 300 norme una serie di questioni vanno affrontate e risolte attraverso diciamo la strumentazione legislativa ordinaria io mi fermo qui purtroppo siamo tutti precettati in aula perché c'è la discussione della legge contro l'omofobia che vogliamo votare speriamo perché quello è un fatto straordinario speriamo entro oggi di avere diciamo questo provvedimento che è una sorta di codice contro il razzismo contro gli oscurantismi ne abbiamo bisogno che questo è un paese straordinario un paese difficile stiamo attraversando una fase davvero molto delicata i rischi di qualche mese fa come ricordava il presidente eletto ci sono ancora tutti ma ci sono anche grandi opportunità quello che raffigura cos'è questo paese dal punto di vista delle contraddizioni e anche dal punto di vista delle enormi capacità contenute nel popolo italiano negli italiani alla vicenda del Gillo da Schettino a quella grande operazione dell'altra notte che dimostra a che livelli può arrivare l'ingegno italiano a che livello possiamo portare l'orgoglio senza redorica e quali prove siamo capaci di mettere in campo se davvero a prevalere e la concordia l'unità a prevalere se è un senso dello Stato e della società che dobbiamo ritrovare e scusate per questa digressione retorica ma sulla sicurezza stradale io credo che davvero dobbiamo crederci tutti se la possiamo fare poche cose da far subito io dico un po' di risorse diciamo a chi deve controllare un po' di risorse a chi deve investire sui punti neri guardate che le risorse ci sono ci sono basta essere molto serio dalle multe vengono messe a bilancio siamo nella fase di preparazione delle 8.000 bilanci dei comuni delle regioni e anche di quello centrale solo i provventi delle multe ammontano quasi a 2 miliardi iscritti a bilancio naturalmente io non me la voglio prendere con i comuni perché poi quelle risorse che entrano che non sono 2 miliardi è molto meno perché c'è molta evasione è molto contenzioso una minima parte va alla mobilità e alla sicurezza anche lì noi dobbiamo ragionare e dobbiamo ragionare senza paraocchi che a luglio io sul decreto del fare ho messo un emendamento è quello dello sconto del 30% per chi paga entro 5 giorni apriti dovevo camminare con la scorta tra virgolette la scorta politica che lanci le cose i sindaci anche i sindaci più vicini e più amici ma ci stai anche tu insomma sul terreno delle risorse se andate a verificare quello che sta succedendo ad incredibile perché lì in quel caso ad esempio le entrate aumentano la gente è contenta perché sconta il 30% però non può essere quello io lo rifarei anche per tutti quei consenziosi delle multe che sono arrivate dieci volte di più ma in costituzionale l'avrei fatto per la certezza dei pagamenti e per la certezza delle risorse dunque questa questione delle risorse guardate che va affrontata allora il ministero facciamo le norme ma non fanno i decreti attuativi ora anche di finirla ora per quanto concerne diciamo i proventi dalle multe dovrà valere per l'annas per i proprietari delle strade regionali delle strade provinciali consultivi comunali bisogna che quei proventi si reinvestano nella sicurezza una parte perché se no e naturalmente i comuni che devono far funzionare gli asili nei due servizi della scuola dovranno fare un'altra battaglia davvero è ingiusto un punto e mezzo del PIL con tutto quello che significa dal punto di vista degli investimenti deve poter significare che qualche volta i fondi per la sicurezza e per la mobilità possono essere anche usate per intervenire su quei 50 punti neri che sono ancora l'origine e allora su questo il cantiere è aperto noi vogliamo ragionare e siamo in una fase di grande pragmatismo condividendo il grosso dei denominatori comuni che il Ministro ricordava e ricordavano gli astri datori grazie e buon lavoro io purtroppo non posso essere rimasto grazie ringraziamo il Presidente anche per l'entusiasmo con cui ha testimoniato il suo lavoro credo che sia importante quello che ha detto oltre alle riforme generali delle leggi che magari poi non arrivano mai qualche provvedimento rapido in una società in rapida trasformazione a volte è più utile do quindi la parola a Aether Ward Vice Presidente del PIN Panel e professore all'Università di Collegi d'Ondra amica e collega da molti anni che presenterà la situazione del progetto PIN e anche alcuni dati che riguardano l'Europa so thank you Aether for your speech Good morning everybody I want to present about the road safety developments in the EU and talk a little bit about the PIN program we're now in the third year of the second EU road safety target for reducing road deaths by 50% between 2011 and 2020 so what is PIN and how is Italy doing in the context of Europe the ETSC set up the PIN program in 2006 and this was in response to the very first target set by the European Union its purpose is to provide a means for comparing the road safety performance of member states and we will look at some of these performance indices in a moment it also allows best practice to be identified and promoted through these comparisons between member states we can identify which are performing very well and take lessons from good practice from them the PIN the PIN covers road user behaviour which is extremely important as we've been hearing this morning infrastructure vehicles and also as we've been listening this morning to our policy makers and others the effects of policy making on road safety that is an extremely important area each year a PIN report is published and in your packs you have a small example of this year's it's just the introductory chapter which is the one that I should be talking about the screens in this room are very small so I suggest instead of trying to strain your eyes to look at the diagrams on the screen you look for the ones that I am talking about because they are all presented in this first chapter and I will I'll describe what's in them the other advantage of the PIN program and talk such as this is that it exposes policy makers and others to the successes of their programs and it also provides an opportunity to challenge policy makers and other stakeholders and partners to do better no matter how well a member state performs there is always room for improvement and we need we need to bear that in mind the first diagram I'm going to show is to be found on page six of our handout and I'm not going to talk to it very long but it shows the progress from 1990 as the EU has enlarged the scale is logarithmic so that we can compare the slopes of the different trend lines we can see the progress has been particularly good and it was very steady in the in the decade of 2000 to 2010 but it looked as though there was a small acceleration in the years 2007 and 8 those with very sharp eyes will see a rise in 2011 and it was in 2011 that 13 countries saw a rise in road deaths after falls in previous years but I'll talk a little bit more about this later on as you can see there is fluctuation in the lines in the trend lines going back to 1990 and even from 2000 in the last target period these fluctuations are likely to continue but I think in general Europe looks as though in the early days of this target that we are on track to at the moment at least to meet the target so how is Italy doing this particular diagram is the one that is on it's figure 4 on page 9 and on the slide here Italy is the one that has the red line around it over the period 2001 to 2012 15 countries achieved the target of a 50% reduction in deaths and that's out of a total of 32 that Antonio Avanoso was talking about that are members of the PIN program the line that is the dotted line is the EU 28 average and it was 49% was achieved by 2012 now then Italy sits right on the average and this is the first of the first of the the yellow bars here in 2001 over 7,000 people lost their lives on Italy's roads but by 2012 it as I said it had reduced to 3,650 Italy needs to continue to play its part or even accelerate if the 2020 target is to be met and the people of Italy are to get the road safety improvements that have been outlined by so many eloquent speakers today this is an interesting graph and it is it is an early one in your handout here and it is figure 1 on page 4 for those that want to look at it slightly more closely I have already mentioned that 13 countries had an increase in road deaths in 2011 but Italy was not one of them there was a small reduction in 2011 here of about 5% but the countries with rises and that includes Sweden the UK and the Netherlands recognised as being the high performers in road safety in Europe are studying why this happened and again we are not really quite sure how much of it is due to bad weather how much of it is due to economic downturn and what the other factors are Italy looks to be very much on the right hand side of this and almost verging into the red but I think this is a little bit of a misrepresentation this is the change between 2011 and 2012 and of course because Italy didn't have a reduction between 2011 and 2012 its position on this looks a little worse than actually it is this is a better a more positive picture again Italy sits on the average line a sustained reduction of about 200 fatalities or just over 200 fatalities a year is needed to meet the the target in 2020 Italy does seem to be on track at the moment but as I said it's very early days yet and the momentum must be kept up and we've heard this morning about all kinds of initiatives and Minister Lupi has has stated how his ministry partners and other stakeholders plan to tackle this unacceptable level of death and injury on the roads of Italy obviously on the roads of the whole of Europe all countries are working towards this this is quite again is quite a busy picture but it may be is more and it's figure five in your handout here for those of you that can see and Italy again sits in the middle very average it's deaths per million population and it's each of the countries in Europe have different size population the number of deaths is not always the best way to make comparisons some countries have even reduced their populations over the over the period and some in fact many have increased their population so this this gives an interesting outlook on where we are the top dotted line is where where the European Union the 28 member countries were in 2001 with a hundred and thirteen deaths per million population and fifty six in 2012 in Italy's case there's been a reduction from one hundred and twenty five per million in 2001 which as you can see was above the European average then to much closer to the European average of sixty now is Italy's deaths per million population which is just above the European average of fifty six this is a bit of a busy slide and again it's best looked at in your in your handout it is it is on the very back page and the lines on this slide I'm afraid have slipped what it is showing is the average annual percentage reduction in serious injuries over the period 2001 to 2012 and that's shown on the vertical axis against the annual average reduction in deaths over the same period and that's the one on the horizontal axis the different colours show that green the spots that are in green are for countries who have performed above average in reducing both their deaths and their serious injuries the ones in red are below average and yellow for others again Italy is average this is important because we've been talking about deaths and although deaths are very very important to us the serious injuries represent a lot of suffering and a lot of cost to families societies and the country because it involves a lot of healthcare costs rehabilitation costs a lot of time off work school and out of education and it is very very traumatic for families to to deal to deal to deal with we're going to hear a little bit more about this later on but I just wanted to put into context Italy's performance at the moment everything is average and as I said even the best can do better and therefore the average must be able to do a lot better and I'm very pleased to have heard this morning about the policies and the programs and the understanding that is in place by government ministers and the police and other major stakeholders in the area of road safety in Italy thank you very much thank you Heather for the presentation dover la parola a Maria Teresa Sanz Villegas della unità di sicurezza stradale della commissione europea buongiorno first of all I want to thank the ETSC to request to me to be here to represent the european commission in this pin talk and as I'm representing the european commission you know we are in a political organization and as a political organization we have to be we have a political framework this political framework that we have is first of all is the white paper 2011 in which we have a long-term vision of zero vision on road safety and secondly we have the policy orientation road safety 2011 2020 with the objective to halve the number of fatalities in these 10-year periods these two objectives are objectives that can be reached at the same time one is a long-term objective that is a kind of philosophy in which we want to avoid all the fatal accidents that we could so it's more a fatality than something that we could measure in parallel of that we want always to have objective that is possible to measure and to verify to see if the different actions that has been taken at European level and at country level are reaching the objectives or not so in the fair road safety action program it was this political objective to halve the fatalities by 50% and we present the road safety 2010-2020 plan we wanted to continue with this objective to give a big signal that is a political will to have this half of fatalities this is a global commitment means that is the whole European Union that has to have this objective we know that this different situation between member states so countries that have already a small rate of fatalities by population maybe will not be able to have this health fatalities and maybe countries that have much more fatalities can do more than 50% so do analysis of the previous 10 years when we fix this objective of 50% reduction we thought it was impossible impossible to have it and finally 10 years later we see that has been not achieved but it was really very close with minus 43% of under the reduction of fatalities taking in consideration and in that period it was an enlargement with a lot of new countries with very very bad performances in road safety so looking at the what is happening now so we see that in 2000 and the reduction of fatalities between 2010 and 2012 is more or less minus 11% that is very very good figure taken in consideration that 2011 was a very very bad year for road safety so now we saw that 2012 is already going well in road safety and I can announce to you that we have already received quick indicators for road safety for most of the European countries and we have information for the first semester of 2013 and we saw that it is already minus 12% of fatalities all Europe together so that could bring to 2000 at the end of 2013 if we continue with this trend to have more or less minus 22-23% of fatalities that is something that is really very very good we have been here to the transport minister to say that it is very important to have a political commitment it is a political commitment it is true but the political commitment can be followed but the assumption of the responsibilities at each level and to have also resources resources mean personal resources but also financial resources so traditionally in road safety we have been always speaking about user responsibility safer vehicles and safer infrastructure when we were developing the new framework of actions we thought it was important to sort out of this traditional philosophy and see the points from other angle so this angle was to consider the European Union as a common road safety area means that the level of safety should be the same in the different countries of the European Union but also same level if we are in urban areas and rural areas for older people for young people people that decide to use the car or decide to be pedestrian or cyclist so that is the meaning of the road safety area the second pillar is to look the road safety in an integrated approach we have been here this morning the different speakers that they have been mentioned also the important for example of resources the financial the maintenance of the infrastructure the better education all these things is impossible that one single one single institute organization be in charge road safety is a policy that is dealing with several ministries several institute and it is important to collaborate all together and also the third pillar is the self-responsibility self-responsibility means that all stakeholders that have a link with road safety they have to take their own responsibilities at the European level the governments the local authorities but also the private companies the car industry the transport companies and of course the individuals all the users the behavior is very important so it is important that each one should take their responsibilities on road safety when in when we have fixed these pillars we have created a strategy and we have defined seven strategic objectives that will be developed in these ten years so the objectives you can you can read on the screen so it is improve education and training increase compliance with road traffic rules safer road infrastructure safer vehicles promote the use of modern technologies improve emergency and post-care service and promote and provoke safety improve safety of vulnerable road users how we can reach these objectives so there is several ways to reach the objectives but one important thing is to improve cooperation by cooperation these spin talks for example that can help to exchange best practices between member states I think more of us we know what is necessary to be done to avoid fatalities or to improve road safety but it is important to see and to look how other countries are doing and also how they implement the measures I think we have already a lot of rules but the rules are respect or not how countries have been trying to increase the respect of the rules we wanted to improve the participation of all stakeholders the commission I remember that has been launched in the European road safety charter that is an instrument to be used for individuals or companies to do voluntary commitments on road safety not everything should be done by legislation or by mandatory things we really believe that it is possible to do things on a voluntary basis improved monitoring we really believe it is important to follow what is the performances of member states we cannot measure and we cannot monitor the performance we don't know if the performances are going well or bad or if the policies that we are implementing are good or bad for road safety so and least and not last of course is improved enforcement we know we have a lot of rules but not always these rules are enforced so that is important matter which are the instruments that the European Union excuse me yeah which are the European instruments that that we have so first instrument that we have is road accidents data and information we really believe that to have good good measures it's important to analyse with to see where are the problems and which is the instruments that we have to do it and if that concerns the PIN is a very good instrument for that of course it's important to give a financial support at European level the financial support that we can provide is financial support in studies or in research that's going back to member states or to local authorities that means to dedicate resources for infrastructure for vehicles and for all the other for all the other aspects of road safety and the last instrument is the legislation we are in a political institution so we have to continue doing legislation the legislation we are going to try to do only when really is necessary and we need an added value for that in that respect I want to remember the most important legislation that has been approved or started in the previous phase on the third row safety action program because that we have to implement in that period and within it will be it will be important measures that will create a real decrease on the number of fatalities so the first legislation that I want to mention that has been approved in the previous year it was the driving license directive this is a directive that is directly linked with the user behavior that was one of the main pillars on the traditional way of the road safety the second one that I wanted to mention also is the cross border enforcement the cross border enforcement is a very important legislation in which it will be the cooperation between the different member states because we saw that road safety is not something that we can see from a country point of view that we have to share with other countries these two directives are in of course with the behavior the third one that I want to mention is the road worthiness test directive in which will be to have safer and safer vehicles and the last one is the directive on the infrastructure this directive on the infrastructure is to have safer infrastructure during all the life of the roads starting from when the design of the roads till the end it's not the end of the life but the maintenance of the lights and the adaptation of the black spots this is a directive that we thought is really very important because even if this directive is only applicable on the trans-European network and we can have this directive because we finance this infrastructure many countries are using the same principles of audits or impact analysis when they create new roads or when they want to audit existing roads so I'm going back to the performances of these of member states and we have already seen this graph previously and I want to insist here in the fact that when we look at the situation in 2001 if we see for example the worst performance countries that it was around 2050 fatalities per million inhabitants that it was the case of Latvia and the best performing countries were around 60% so it was Sweden the Netherlands and UK so the worst performing was doing four times more fatalities than the best when we see the situation in 2012 because it's the last final data that we have we see that the worst performing countries is around 100% and the best performing countries are more or less 40% so we see the distance between the worst performing countries and the good performing countries has been reduced and that is what exactly we wanted to do when we say a road safety area to have all the member states going to the same to the same performance performance I show you this graph because I think it's interesting when we see the fatalities from 2011 to 2012 we saw that we was above what it was planned to do and I explained to you before that based on the data that we have for 2013 I think for the third for the first time we are going to do better than it was planned maybe the reason could be because of the political crisis because different things but I really believe it's not only because of the political crisis because when we see countries like Germany or others for which they don't have a crisis there is a big reduction also in fatalities so I think all the measures that has been implemented on the past now they are having results the measures that we do in behavior in education is not going to have the results immediately so they are going to have the results in a more long term so that is something that I wanted to share with you because I feel that is really very promising for all of us that we are working in road safety so on the list of priority objectives that I showed to you before I want to mention two of them because it is the priority now for the European Commission there are two objectives number five is the first one is to promote the use of modern technologies to increase road safety we are in a war that is in a permanent change the technology I think is quicker that what the legislator is able to react so there is an ongoing work that we are doing at the Commission and we want to be focused on the system that are inside the vehicle to improve road safety so we are doing some studies some public consultations and we want to to maybe it is too early still to know what we are going to do but we want to say that maybe we want to work in two different areas first of all is the further promotion of voluntary deployment of safety technologies but it will be very difficult to legislate in that part and the other is to work in legislative acts with the revision of the type approval or to have a type approval framework for the different for the different road safety devices the second objective is the the title was improve emergency and post injury services but people that work in road safety usually say injuries strategy so you know that it was a lot of criticism always to say that the objectives is only half number of fatalities or reduce fatalities but the fatalities is only the peak of the pyramid there is a lot of people that are injured and a lot a lot of people that are also seriously injured so the commission wanted to have also a target on a strategy on injuries so we have started working on that and the first step it was to harmonize definition of seriously injured looking at the different statistics looking at the different data we saw that it was really very very difficult to compare performances between member states when we see this progress on road safety we see that the fatalities when we see the evolution 2001-2010 it was minus 43% but when we look at the serious danger it was only 34% but that is not the same on the different countries mainly because of the definition the definition are very difficult in different countries in some member states the definition of serious danger when the person goes to the hospitals in other ways when the person stays at the hospital 24 hours but even if it was the same left as the hospital it's not comparable because that depends also on the different health sectors on the European Union so it's not something that we can compare between member states so looking at this graph when you see the ratio because serious danger and fatalities you see that it's very very different you see that for example for Austria it's near 20 seriously injured by one fatality or you could see an island it's more only 3 so that is unbelievable it's because the ways to measure seriously injured are really very different so if we wanted to have a target on seriously injured the first thing that we wanted to know is to try to fix the numbers and to have a uniform harmonization when we try to work in the definition of this strategy we don't want to have only figures to have figures unpublished it's really because we believe if we analyze this aspect we are going to know better which are the actions that we have to do and if we focus and we analyze on the serious danger we will see that we are going to change the focus of the priorities if we use the fatalities we are going to see that most fatalities are on traditional roads in people driving the car and in most of the cases for young drivers if we analyze the serious danger we are going completely to change the focus so we are going to see that the majority are mainly in urban areas are vulnerable road users and in some cases is elderly people so we don't want to have figures statistics indexes only for the pleasure to show in an audience is really because we want to use this opportunity to try also to complement the focus and not always be focused on cars and roads but to be focused in other aspects that will be mainly vulnerable road users in urban areas so the so as final thing I want to say to you that we have also produced a commission staff working document that has been discussed with member states and has been very well well received for all the organization and is the first milestone towards an injury strategy we have published on our European on the road safety website and if you want to know more on that strategy you could you could visit our website that is on the last slide of my presentation so thank you thank you very much maria for your representation d'ora la parola all'ingegnere sergio dondolini direttore generale per la sicurezza stradale del ministero dei trasporti italiano prego ingegnere grazie innanzitutto un ringraziamento alla fondazione ANIA al CNEL e con cui tra l'altro collaboriamo da molti anni da quando abbiamo iniziato questo progetto o questa avventura verso la riduzione del 50% della mortalità sulle strade così come ad Antonia Venoso e all'ETSC e alla Commissione Europea ecco la dottoressa Villegas ricordava appunto questo lavoro che si sta facendo sui feriti gravi è un lavoro al quale stiamo partecipando anche noi all'interno del High Level Group on Road Safety e saremo pronti ad adeguare tutti i documenti nazionali proprio nella prospettiva della considerazione dei criteri che saranno adottati dalla Commissione in termini feriti gravi un saluto particolare al dottor Bisogno e un augurio di buon lavoro con la polizia stradale facciamo da tempo tutta una serie di iniziative di lavori congiunti e di attività insieme e in qualche modo condividiamo un po' anche con loro questo tipo e quindi sono certo che il dottor Bisogno oltre alle sue assicurazioni darà continuità ma anzi sicuramente darà un maggiore impulso e superata questa fase iniziale sono certo che mi avrà affascinato un po' da questa materia della sicurezza stradale e insieme riusciremo a fare ogni sforzo per cercare appunto di raggiungere questo obiettivo al 2020 nel corso dei vari interventi i dati sono stati già in qualche modo forniti diciamo abbiamo chiuso al 2011 con 3860 morti e c'è la stima ancora provvisoria dell'Istat tra 3650 morti al 2012 con una riduzione al 2012 circa del 49% parliamo di 11 morti al giorno e quindi due recessi ogni ora ecco questi dati al di là della questione sui feriti in cui oltre al discorso della Commissione Europea evidentemente alcuni dati che anche sono stati dati non vengono fatti in relazione a specifiche esigenze è chiaro che il milione di feriti che spesso viene detto è il costo che rappresenta per il sistema assicurativo ma un milione di feriti rappresentano qualcosa in più di tutta la somma dei paesi europei e rispetto al lavoro che dobbiamo fare con l'Europa è assolutamente indispensabile che i dati siano confrontabili anche come ci hanno ci ha evidenziato il rappresentante della Commissione Europea è assolutamente indispensabile che si arrivi a una sempre maggiore omogeneità del dato proprio per dare un senso anche a questi confronti quindi con questo non è evidentemente un dato utile perché è l'onere che deve soffrire il sistema rassicurativo e di conseguenza il cittadino rispetto ai costi e fa parte assolutamente dei costi dell'incidentalità stradale ecco una cosa purtroppo che va rilevata è che questi numeri queste enormità questi 3650 morti anche se fanno parte diciamo sfuggono spesso alla percezione collettiva è un fenomeno quello dell'incidentalità stradale che si sviluppa in modo costante nel tempo in modo abbastanza diffuso e distribuito sul territorio ecco se andiamo a fare un confronto con un evento che ha concentrato una tragedia di questo tipo in un unico momento che potrebbe essere quello la tragedia diciamo l'attentato alle torri gemelle con guardando su wikipedia ha provocato 2752 morti in un solo momento ecco l'incidentalità stradale i 2752 152 morti li fa in sette mesi quindi avremo una torre gemelle se poi andiamo a confrontare gli effetti che ha determinato su tutti i sistemi di sicurità mondiale sul nostro modo di approcciare un viaggio ecco ecco allora forse se riuscissimo a trasferire agli utenti della strada una percezione l'esatta percezione di quello che rappresenta l'incidentalità stradale ecco forse avremmo a disposizione una delle più efficaci misure di sicurezza stradale di qui al 2020 qui c'è l'andamento dell'incidentalità negli anni si è detta quasi 7100 morti nel 2001 i 3650 ci hanno portato non abbiamo raggiunto l'obiettivo perché stiamo circa al 2010 al 42,6% di riduzione e poi praticamente il risultato praticamente del 50% è stato raggiunto al siamo al 49 quindi al 2012 ecco non abbiamo raggiunto l'obiettivo ma molto si è fatto io non mi soffermerei sui discorsi perché già sono stati affrontati in modo dire assolutamente dettagliato dei confronti rispetto agli altri paesi europei ecco però volevo e qui diciamo abbiamo riportato nel nostro diagramma un grafico che rappresenta il contributo del 2011 rispetto al programma del nuovo decennio ecco forse se posso se può essere utile anche come uno stimolo alle riflessioni che devono essere fatti capire se oltre all'analisi che sono state presentate la commissione europea e forse anche dai tsc cercare di capire anche le differenze cioè una semplice gradatoria tra paesi confrontare i risultati del Lussemburgo con quelli dell'Italia piuttosto che della Francia forse bisognerebbe o di Malta bisognerebbe farci una riflessione per capire come correggere questo dato visto che ci troviamo di fronte a un secondo ciclo decennale di sforzi verso una riduzione dell'incidentalità stradale e quindi sicuramente verso una fase più matura della nostra sfida per migliorare la sicurezza stradale ecco qui abbiamo riportato le azioni che hanno guidato al cambiamento direi che possono essere sintetizzate nel fatto che dal 2002 in poi l'Italia ha adottato sicuramente un approccio sistematico e strutturato rispetto al problema sicurezza stradale quindi si è adottato un piano nazionale della sicurezza stradale in cui sono state individuate tutta la serie di azioni che potevano essere che dovevano essere eseguite per raggiungere l'obiettivo di riduzione del 50% piano che si è svolto con cinque programmi di attuazione ha permesso il cofinanziamento di 1454 interventi che corrisponde a 3.150 misure nel senso misure ogni intervento poterà comprendere più di una misura di sicurezza dal monitoraggio che stiamo eseguendo che stiamo monitorando questi interventi proprio per individuare le migliori pratiche per capire quali sono gli interventi più efficaci in relazioni alle singole realtà diciamo i progetti che sono stati finanziati che riguardano l'86% misure infrastrutturali e strategiche ecco questo tipo di piano non ha preso in considerazione ovviamente grandi opere quindi parliamo di ordini diverse ma misure puntuali che possono essere svolte sul territorio evidentemente con dei costi molto più ridotti ma che di fatto sono finalizzate a risolvere dei problemi puntuali di sicurezza stradale che spesso soprattutto sulle strade extraurbane piuttosto che comunali rappresentano le vere criticità rispetto al problema poi abbiamo avuto misure di riferimento del governo della sicurezza stradale che fondamentalmente sono i centri di monitoraggio della sicurezza stradale quindi per far acquisire nell'ottica della responsabilità condivisa che ci ricordava la collega della Commissione Europea e coinvolgere i governi locali e far assumere appunto anche a loro una capacità di governo che si può assumere solo nel momento in cui si ha una conoscenza dei fenomeni che avvengono sul proprio territorio si è immaginata all'epoca della predisposizione del piano la costruzione di centri di monitoraggio della sicurezza stradale centri in grado di valutare criticamente il dato di sicurezza stradale sul territorio e poi di procedere alla messa a punta alla predisposizione di programmi e priorità di intervento e poi abbiamo un 3% di misure strategiche altra azione importante che è stata condotta in questo periodo e che ha portato ai risultati che abbiamo visto prima è stata l'azione normativa come ricordavano anche i rappresentanti politici che hanno partecipato a partire dalla patente a punti un ampliamento dei poteri di accertamento degli organi polizia in asprimento delle sanzioni ad esempio un lavoro molto importante è stato fatto sulla guida sotto l'effetto di alcol e droghe come vedremo dopo sono stati aumentati tantissimi controlli grazie anche a una collaborazione con le forze di polizia al quale il ministero ha fornito circa mille chilometri che è un terzo del parco di chilometri presente all'epoca sul territorio nazionale e 2.200 percorsori tra appunto polizia stradale e carabinieri e poi un'altra serie di misure specifiche ad esempio alcol zero per i conducenti neopatentati cosiddetti neopatentati e per chi esercita professionalmente attività di trasporto altra attività direi importante insomma che in qualche modo volta proprio a superare o a trasferire questo concetto di dimensione enorme e tragica del fenomeno di incidentalità stradale è stata appunto tutte le campagne di sensibilizzazione che sono state attivate queste sono alcune del ministero di cui appunto l'iniziativa Icaro fatta in collaborazione con la polizia stradale ormai penso da 12 o 13 anni e poi ci stanno qui alcune immagini delle campagne del ministero che ormai abbiamo adottato anche noi il logo lo slogan sulla buona strada proprio a testimonianza dei risultati comunque buoni ma che comunque è necessario attivare e poi c'è anche tutta una serie di attività di educazione abbiamo fatto un progetto sperimentale denominato process appunto progetto sperimentale di educazione stradale però domani a Riccione ci sarà un convegno con la polizia locale e andremo lì a spiegare agli organi di polizia locale che comunque compiono molte attività sul territorio questo tipo di progetto e a proporgli l'adozione di questo progetto anche nelle scuole proprio per cominciare questa attività per continuare questa attività di formazione iniziata dal Ministero parlavo prima della guida in stato di ebrezza ecco questo è dal 2007 quello che è successo in materia di controlli appunto grazie all'acquisto delle apparecchiature appunto che abbiamo fornito agli organi di polizia siamo passati dai 790.000 controlli circa del 2007 ai 1.650 del 2010 corrispondentemente a questo praticamente il numero di casi positivi rilevati sono passati dal 5,9% al 2,5% sul numero di persone controllate questo che significa che i controlli sono un eccezionale strumento di prevenzione eccezionale strumento di prevenzione perché nel momento in cui l'utente della strada ha visibilità che i controlli vengono eseguiti adatta i propri comportamenti e quindi e conseguentemente si riduce il numero di casi procedimenti nonostante l'aumento che è stato di quasi 7 volte ecco questo è stato uno sforzo compiuto grazie anche appunto a questa collaborazione a cui accennavo prima con sia con la polizia stradale che con l'arma dei carabinieri e che ha permesso di ottenere risultati è chiaro che in una prospettiva 2020 dobbiamo essere in grado di di aumentarli diciamo l'obiettivo sarebbe quello di raggiungere almeno il 10% dei patentati quindi raddoppiare questo numero è altrettanto vero che questo numero di controlli è soltanto il numero di controlli eseguito dai corpi di polizia nazionali quindi purtroppo non abbiamo un monitoraggio di quanto viene eseguito in sede locale e vi assicuro per i contatti con l'ANCI che abbiamo quotidianamente stiamo cercando di lanciare anche un monitoraggio di queste attività soprattutto nelle grandi aree urbane vengono eseguiti molti controlli per cui attualmente diciamo i numeri che forniamo penalizzano forze l'Italia in realtà il numero di controlli che oggi viene eseguito è circa sui 3 milioni di controlli sulla guida in stato di ebrezza un'altra attività specialistica che abbiamo lanciato in questo periodo è stata quella sul controllo dei mezzi pesanti dove fatta appunto in collaborazione sempre con la polizia stradale dove attraverso dei centri mobili facciamo su strada delle vere e proprie revisioni dei veicoli pesanti ecco anche qui si vede quell'effetto a cui accennavo prima di prevenzione quindi se come differenza il numero di servizi sporti o di veicoli controllati che è stata del 216% in realtà abbiamo avuto solo un più un 99% delle infrazioni accertate quindi anche qui c'è stato un adattamento dei comportamenti e un reindirizzamento verso comportamenti in regola diciamo comunque da tutti questi dati relativi al decennio facendo un focus emergono evidentemente delle criticità criticità mentre nel settore autostradale dove attraverso il sistema di controllo di velocità media e comunque la costruzione di un ambiente certamente più sicuro di quanto non possano essere a strade extraurbane piuttosto che non strade urbane diciamo abbiamo l'8,8% di incidentalità e come feriti il 6,3% il grosso dell'incidentalità si concentra sulle strade urbane e il grosso della mortalità si concentra sulle strade urbane e sulle strade extraurbane questo perché perché appunto diventa assolutamente importante andare a individuare quelle che sono le criticità attuali del sistema in una prospettiva appunto 2020 per ricavare quelle che sono le azioni da mettere all'interno di un piano. Un altro aspetto che emerge in modo particolarmente forte è quello che è stato citato prima è quello dell'utenza debole. Nel 2011 è stato il primo anno in cui l'utenza debole ha superato il 50% dell'incidentalità complessiva siamo arrivati al 51%. Così come appunto le dati di incidentalità ci permettono da un'analisi delle cause si possono ricavare delle importanti informazioni per appunto per la messa a punto poi di quelle che saranno le misure rispetto al piano nazionale della sicurezza stradale con orizzonte 2020 appunto che di cui parlerò tra un pochino. Quindi diciamo queste sono solo alcune delle cause abbiamo messo velocità, uso di alcol e droghe, assenza o mancato uso dei dispositivi di protezione che con un andamento abbastanza ondivo in funzione del numero di controlli in funzione del numero di misure normative che e che comunque stiamo monitorando con il sistema ulisse cioè siamo passati da percentuali e comunque ancora abbastanza differenziato sul territorio quindi stiamo cercando di lavorare così come la Commissione Europea sta cercando di uniformare i livelli di rischio tra i vari paesi europei allo stesso modo stiamo cercando noi di uniformarli all'interno del nostro paese intervenendo anche sulle singole regioni e in cascata su province e comuni. Ecco ma veniamo al piano nazionale della sicurezza stradale con un orizzonte 2020 che è praticamente in fase di ultimazione e annuncio oggi per la prima volta che sarà pubblicato per una consultazione pubblica tra qualche giorno sul sito del Ministero anzi invito tutti tutti coloro che hanno dei contributi delle osservazioni ecco a volercele fornire in modo tale che possiamo poi prenderlo in considerazione e andarlo a integrare. il processo che abbiamo di definizione che abbiamo seguito parte dagli obiettivi generali che ricalcano direi assolutamente rigorosamente quelle sette linee che ha dato la Commissione Europea e di cui si è parlato prima. L'analisi dei dati invece ci ha permesso di individuare quelle che sono le categorie a rischio. Ecco in aggiunta all'obiettivo generale che poi in qualche modo calibrato appunto sulla riduzione del 50% al 2020 la Commissione Europea aveva dato anche un'opzione di due minuti soltanto mi danno ma ancora se sono quattro forse ce la faccio comunque cerco di sbagliarmi dicevo sì abbiamo ragionato appunto abbiamo integrato questo obiettivo generale di riduzione del 50% con degli obiettivi specifici proprio mirati a quelle che sono le categorie a rischio che emergono da quei dati. Abbiamo incrociato queste appunto categorie a rischio con fattori di rischio proprio per iniziare a tirare fuori delle linee strategiche dalle linee strategiche adesso andremo un po' più in dettaglio compatibilmente con i tempi che mi vengono concessi dal professor Tira passeremo poi ovviamente all'attuazione rispetto al quale devo dire c'è il grosso interrogativo delle risorse perché necessariamente un piano del genere richiede le risorse anche se ma questo sarà un confronto che poi cercheremo di fare con la parte politica visto che mi sembra che abbastanza diffusa la convinzione che l'investimento in sicurezza cioè che i soldi spesi in sicurezza statale rappresentano un investimento e poi partiremo andremo sul monitoraggio e ritorneremo agli obiettivi generali quindi dicevo riduzione del 50% allora questo individua un po' la strada che dobbiamo fare al momento se continuiamo a seguire il trend degli ultimi tre anni noi stiamo più o meno al 5% rispetto ad altri paesi che hanno fatto dei salti del 20% in un solo anno noi siamo stati molto più costanti nel tempo abbiamo tenuto dal 5 al 9% nel decennio precedente però se ci manteniamo sulla strada di questi ultimi tre anni arriveremo a raggiungere 2.454 morti alla fine al 2020 e questo non basta bisogna accelerare bisogna fare uno sforzo in più bisogna fare quindi la media che dovremmo seguire è quella del circa un 7% l'anno queste sono le sette linee guida della commissione europea a cui che abbiamo preso assolutamente in considerazione qui chi ha fatto le slide sembri divertiti a fare ecco come dicevo prima abbiamo integrato l'obiettivo generale con degli obiettivi specifici che tengono conto appunto individuate sull'analisi di categorie individuate in base al numero totale di morti e di feriti dal trend storico morti e feriti confronto con la situazione di altri paesi europei quindi praticamente i tassi di mortalità nel nostro paese rispetto a quelli degli altri paesi europei e il livello specifico di rischio quindi per questo abbiamo individuato tutte le categorie di utenti deboli pedoni motociclisti ciclomotoristi ciclisti e a cui abbiamo aggiunto anche quella degli utenti a rischio di incidenti in itinere l'incidentalità sul lavoro e poi abbiamo aggiunto un obiettivo che a noi sembra particolarmente importante perché è di elevata valenza sociale e perché poi alla fine pone l'Italia in questa prospettiva di vision zero in cui ormai abbiamo sentito anche l'Europa sta operando quindi abbiamo messo bambini morti zero al 2020 cioè vorremmo ovviamente è un obiettivo tendenziale è un obiettivo tendenziale ma abbiamo avuto nel 2011 61 bambini morti sulle strade di cui 11 pedoni 11 ciclisti e tutto il resto sulle automobili c'è ancora quindi vorremmo operare e questo è un esempio di individuazione lo salto visto i tempi allora chiedo scusa quindi sulla definizione degli obiettivi specifici abbiamo fissato come obiettivi di riduzione bambini fino a 14 anni meno 100% quindi obiettivo zero due ruote a motore 50% tenuto conto che comunque si tratta di un fenomeno quello della mortalità delle due ruote a motore in crescita non solo in Italia dove ce ne sono molti ma praticamente in tutta Europa e quindi secondo noi il 50% è già un obiettivo particolarmente arduo da raggiungere ciclisti in cui ci troviamo anche in presenza di un fenomeno di aumento di mobilità punteremo al 60% pedoni 60% e utenti di incidenti in itinere 50% qui cercando appunto di sfruttare tutte quelle forme partenariali anche con il mondo privato che sarà possibile pubblico e privato che sarà possibile stimolare proprio perché abbiamo la strada preferenziale delle aziende per cui appunto i conducenti lavorano che potrebbero costituire una strada preferenziale per arrivare al singolo utente ecco questo è un esempio dei fattori di rischio associati quindi abbiamo messo velocità visibilità alcol e droghe vulnerabilità dispositivi di protezione fattori ambientali in massa e forma dei veicoli in mancanza di esperienza e stanchezza prendo ad esempio i bambini sicuramente andremo agire sulla visibilità ad esempio per i pedoni e per i ciclisti sui dispositivi di protezione per quanto riguarda appunto sia i ciclisti che i bambini in automobile e poi sulla mancanza di esperienza quindi un gran lavoro da fare come educazione stradale per dare un contributo per ad esempio per la messa in sicurezza dei percorsi casa scuola qui vabbè c'è un esempio appunto di come si sviluppa il piano quindi linee specifiche per ciclisti abbiamo moderazione alla velocità in ambito urbano ridurre il rischio infortunio molto elevato per i ciclisti poi campagne informative e dove devono essere orientate protezione per gli utenti vulnerabili quindi un lavoro sulla visibilità e poi diciamo sia come ricerca che come normativa la necessità di introdurre nuove norme per una maggiore visibilità e per l'utilizzo obbligatorio dei sistemi di protezione ecco al piano verranno allegate tutta una serie di schede di cui questo è solo un esempio non so se riuscite a vederle negli schermi ma comunque sono realizzazione di piste e percorsi cicliabili sicuri vogliono essere delle schede di misura che possono anche costituire un esempio per il coinvolgimento appunto di tutti i soggetti poi che hanno il governo della sicurezza stradale sul territorio nel frattempo di adozione del piano è finito il precedente beh non è che che stiamo comunque con le mani in mano non stiamo fermi hanno già parlato della riforma complessiva del codice in collaborazione con l'associazione nazionale comuni italiani nello scorso mediasi di maggio abbiamo in occasione della settimana mondiale della sicurezza stradale rivolta alla sicurezza dei pedoni abbiamo cercato di stimolare tutta una serie di iniziative all'interno dei comuni proprio rivolte alla salvaguardia dei pedoni le iniziative ovviamente non erano limitate a quello che doveva accadere in quella settimana in cui comunque la commissione ci aveva dato l'obiettivo zero ma erano rivolte comunque a a stimolare una serie di azioni e di attività volte alla salvaguardia dei pedoni beh hanno aderito come dicevo 120 comuni e dai dati forniti dalle polizie municipali l'obiettivo è stato raggiunto l'anno precedente sulla base di questi dati c'erano stati tre pedoni morti quest'anno non ne abbiamo avuti nessuno in quei comuni ovviamente la speranza cioè l'obiettivo è quello di stimolare proprio nell'ottica di una di una responsabilità condivisa che che ci ha indicato appunto la commissione europea un altro lavoro che stiamo svolgendo e qui accelero perché e l'automatizzazione è completa informazione del processo di raccolta dei dati di incidentaria è un lavoro che stiamo facendo con l'istat anche in relazione a questo discorso dei feriti gravi che si sta sviluppando in Europa abbiamo già preso contatto e ci sono state delle riunioni per integrare i vari sistemi anche quello sanitario che è indispensabile appunto per l'adozione dei parametri che vengono indicati dalla commissione europea che poi sarebbe maestro e più da cui serve il dato il raccordo tra la scheda di dimissione ospedaliera e il dato di incidentalità ma questo è un lavoro che si sta svolgendo vedo la dottoressa Abruzzone che mi sorride per cui conferma poi stiamo lavorando sui corsi di guida sicura abbiamo una sperimentazione sulla base di previsioni della legge 120 abbiamo promosso la stimola di un protocollo con una serie di centri organizzatori di guida sicura e stiamo facendo una sperimentazione stiamo passando proprio dalla fase in cui abbiamo visto il monitoraggio dapprima sulla base delle dichiarazioni dei partecipanti ai corsi che sono più di 10.000 al momento e poi ha una verifica su dati obiettivi che sono quelli che risultano ananagrafe conducenti dati di recortazione di conteggio dati di sospensione dei patenti per cercare di capire quanto i corsi di guida sicura possano influire sulla sicurezza stradale nel suo complesso vista la sede abbiamo proprio qualche giorno fa e oggi è prevista una riunione abbiamo stipulato un accordo con il CNEL per attivare il riavvio delle attività operative della consulta nazionale per la sicurezza stradale che a breve verrà riconvocata abbiamo per novembre programmato una nuova fase della campagna di comunicazione sulla buona strada questa volta dedicata agli utenti deboli ho cercato di fare la sintesi più veloce possibile di quanto ho fatto e comunque ringrazio tutti per l'attenzione grazie grazie mille ingegnere per la presentazione molto esaustiva mi scuso se ho richiamato ma perché dobbiamo per rispetto agli altri relatori anche fare un'altra sessione allora la parola Dario Focarelli direttore generale di Ania come dire non sono neanche diciamo un tecnico nella materia il mio lavoro è la direzione dell'Ania l'Ania che cos'è l'Ania è l'associazione di compagnie di assicurazione l'Italia è un mercato che era assicurativo importante è il quarto mercato d'Europa il settimo del mondo e ovviamente diciamo nella mission dell'Ania cioè quella di contribuire in maniera significativa al benessere diciamo della della nazione e ovviamente la sicurezza statale è un punto fondamentale di questo l'abbiamo già detto io vado molto rapidamente nel 2004 l'Ania ha fatto preso una decisione importante ha costituito la fondazione per la sicurezza stradale sapete eh con un solo unico scopo quello di ridurre gli incidenti stradali nel numero nella gravità negli effetti sociali ehm è stato è un investimento importante che nasce su una consapevolezza serve un metodo manageriale in qualche modo di approccio al problema serve di capire il problema di avere delle soluzioni ehm come dire mirate non generiche e cercare di lavorare su tutti i fattori che eh c'è stato ricordato prima poi alla fine fanno sempre nella triade strada uomo e veicolo eh abbiamo provato a farlo diciamo in un approccio eh integrato e se volete manageriale al problema eh abbiamo investito in nove anni 80 milioni di euro che non è una piccola cifra soprattutto se è fatto completamente pro bono da parte del settore privato credo di poter dire che oggi la fondazione sia un centro di eccellenza è diventato un interlocutore istituzionale con tutti quanti voi è inutile che diciamo faccio la lista e non ne ho nella competenza e nel tempo per fare la lista degli interventi ma certamente la come dire il fatto che a 360 gradi tutti gli interlocutori istituzionali vedono la fondazione ANIA un elemento importante credo che sia un grande risultato e abbiamo anche un po' la come dire la presunzione di aver contribuito al risultato che poi ci è stato espresso così bene io diciamo per deformazione professionale vengo faccio l'economista diciamo di professione ho fatto economia per tutta la vita per deformazione professionale cerca di guardare diciamo i fenomeni il più a lungo possibile perché molto spesso sapete dieci anni sembra un periodo lunghissimo i prossimi dieci anni sembra un periodo lunghissimo ma ma spesso come dire sono prospettive brevi e e vi propongo diciamo solo questo grafico solo questa osservazione purtroppo so che non siete bene ma proverò illustrarvelo il numero dei morti delle strade in Italia in Italia morirono nel 1952 circa 4.000 persone e muoiono sono morti nel 2010 adesso i dati precisi li avete già sentiti ma lo faccio per semplicità 4.000 persone nel 2010 se uno lo vede così è un effetto disastroso ovviamente naturalmente la curva non è andata così la curva è stata che abbiamo raggiunto il massimo diciamo negli anni 70 quando morivano circa 10.000 persone sulla strada se vedete questa tabellina che purtroppo si legge male ma provo a dire ovviamente dipende in maniera molto importante dal numero dei veicoli e qui c'è un'osservazione però molto diciamo importante che sottoponga la vostra riflessione guardate l'indice di mortalità per mille veicoli nel 1952 era 3,39 vuol dire che morivano tre persone ogni mille veicoli se ripetete l'osservazione ogni 10 anni questo numero è sostanzialmente dimezzato ogni in ogni decennio si è passati da 3,39 nel 61 erano 1,50 e così via fermiamoci al 91 a 0,22 in questo periodo la riduzione in rapporto al numero era dovuta a due cose l'aumento dei veicoli oltre a un tendenziale miglioramento della qualità dei veicoli ma sostanzialmente l'aumento dei veicoli a un certo punto tu non potevi guidare due veicoli contemporaneamente e abbiamo avuto un trend vedete è veramente impressionante nella sua regolarità di dimezzamento ogni 10 anni del numero dei morti per veicolo purtroppo nel 91 nel periodo che va dal 91 al 2001 questo dimezzamento non c'è più e soprattutto perché manca la crescita dei veicoli sostanzialmente questo dimezzamento sempre senza crescere i veicoli invece c'è stato nel 2001 al 2010 per me questa è l'evidenza che tutti gli sforzi semplici che tutti gli sforzi che l'ingegnere Dondolini ci ha mostrato tutti quanti noi abbiamo fatto tutti quanti noi in questa tavola questi sforzi hanno funzionato abbiamo ripreso un tasso di riduzione guardato sul decennio che è comparabile a periodi in cui il tassi di riduzione era guidato da un altro effetto dal fatto che le persone avevano più veicoli diciamo e ovviamente non potevano guidarli contemporaneamente l'altra cosa importante è che apposta c'era un piano cosa che non c'era credo posso sbagliare magari faccio una gaffa clamorosa ma non c'era tra il 91 e il 2001 i piani servono e servono anche diciamo gli obiettivi ambiziosi come quelli che la commissione ha descritto il mio punto diciamo analitico è che servono anche diciamo la tecnologia la tecnologia è un punto fondamentale l'ingegnere ci ricordava facciamo più controlli e gli italiani si adattano e fanno meno di quella cosa ma in realtà e poi indirettamente ci ricordava un'altra cosa nelle autostrade è diminuito moltissimo la mortalità perché c'è il controllo a distanza bene secondo me la strada dei prossimi dieci anni deve andare su questo tipo di tecnologia che in realtà noi abbiamo già ma pensiamo poco nell'utilizzo che sono le scatole nere nelle macchine ci ricordava l'amico che è intervenuto all'inizio che negli aerei hanno l'obiettivo zero e negli aerei ci sono le black box le black box le black box hanno due funzioni diciamo per il cittadino una funzione di controllo ma anche di stimolo a guidare bene perché se a quello ti è associato il fatto che paghi meno assicurazione hai un incentivo fortissimo e l'altra cosa altrettanto importante forse anche più importante è che misura esattamente che è successo perché noi quello è fondamentale è stato fondamentale nell'industria dell'aviazione ma noi ancora su questo siamo un pochino indietro cioè noi non abbiamo nonostante tutti gli sforzi eccetera misure precise buone eccetera eccetera di dove avvengono gli incidenti o meglio lo sappiamo ma non abbiamo una cosa sistematica utilizzabile immediatamente online su cui concentrare immediatamente gli incidenti tant'è vero che nel prossimo piano ci siamo posti l'obiettivo di uniformare metodi di rilevazione che sono molto diversi eccetera eccetera se ci pensate strumenti come la black box te la danno immediatamente cioè non serve che arrivi il rilevatore eccetera eccetera in teoria quello strumento ti da già l'informazione e qui mi collego al secondo punto della tecnologia che vorrei fare che secondo me deve essere un po' il driver del prossimo decennio che è quello dei controlli a distanza noi abbiamo fatto tantissimo sull'autostrada abbiamo detto in realtà nelle città abbiamo dei controlli a distanza però proporzionalmente molto meno secondo me noi dobbiamo investire nei controlli a distanza certe cose si osservano con le telecamere altrettanto bene che con l'uomo lì e non solo ma l'effetto deterrenza paradossalmente può essere maggiore perché ovviamente non puoi mettere diciamo un controllo in ogni angolo della strada mentre invece una telecamera in ogni angolo della strada non dico che è possibile ma insomma è più facile ecco investire diciamo in quella tecnologia ha un effetto di deterrenza molto forte e forse produrrebbe lo stesso effetto che in qualche modo lei ci ha già descritto per gli interventi dei controlli umani quindi diciamo se vedo una strada diciamo per il futuro e su questo le compagnie sono leader e l'Italia è leader perché l'Italia è il paese al mondo dove ci sono più black box sulle macchine ne abbiamo più di un milione perché ne abbiamo più di un milione perché abbiamo un serio problema assicurativo nel senso che sappiamo che diciamo le frodi in assicurazione sono più alte che altrove e le assicurazioni hanno di loro spontanea volontà aperto un mercato che è anche un mercato costoso perché poi devi installargli la macchina devi dargli il servizio eccetera eccetera ma che ha un ritorno assicurativo forte evidente ma un ritorno in termini di prevenzione secondo me e di sicurezza statale altrettanto forte sul quale secondo me tutti quanti insieme dovremmo un po' più ragionare collegato con i controlli a distanza forse questo potrebbe essere diciamo un driver su cui lavorare teniamo conto che la commissione europea già ci chiede dal 2015 di avere l'e-call ci probabilmente avremo l'e-call su tutte le macchine di serie da produzione dal 2015 2016 l'e-call è quello strumento che servirà per chiedere aiuto dopo un incidente quello strumento lì ha delle potenzialità enormi diciamo dipenderà ovviamente come questo sarà disegnato ma comunque delle potenzialità enormi e delle implicazioni in termini di sicurezza che a mio avviso vanno vanno valorizzate detto questo il nostro impegno diciamo continuerà è nel DNA diciamo del settore assicurativo una valenza sociale e ovviamente il come dire la sicurezza è per definizione il campo in cui più facilmente si vede e si esplica grazie 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 nel ringraziare il dottor Focarelli ringrazio la fondazione ANIA e TSC per questa sessione per avermi dato opportunità di coordinarla non direi che c'è il tempo per il dibattito in questo momento la prossima sessione ha meno interventi forse riusciamo a fare qualche cosa alla fine quindi lascio subito la parola al prossimo moderatore grazie a tutti ancora grazie grazie ok io direi di cominciare subito quest'ultima sessione perché i tempi sono veramente stretti e io mi chiamo Luca Persia lavoro sulla sulla ricerca nella ricerca della sicurezza strada diversi anni con un team di bravissimi ricercatori e ho il piacere di moderare questa ultima parte che è dedicata alle esperienze internazionali cerchiamo di fare un po' un un confronto eh fra ciò che abbiamo visto fino adesso per il nostro paese e ciò che eh viene viene da esperienze in in altri paesi ehm devo dire che su questo su questo approccio del confronto internazionale eh sia con le esperienze eh di politiche e misure per la sicurezza stradale in altri paesi sia con i risultati delle ricerche internazionali finanziate dalla commissione europea eh noi nel lavoro che mh stiamo facendo supportando il la direzione sicurezza stradale del ministero dei trasporti nella redazione del nuovo piano sicurezza statale ecco abbiamo puntato molto quindi ehm l'ingegner dondolini ci ha presentato dell'anteprima del del piano e lì l'esperienza internazionale in termini operativi e di ricerche è stata presa molto a riferimento in questa sessione abbiamo la fortuna di avere eh tre ospiti eh illustri eh comincio dalla mia destra abbiamo Anna Vadebi dall'istituto di ricerca sulle strade dei trasporti eh svedese Joel Valmaine del gruppo interministeriale sulla sicurezza stradale francese e Alberto Arbaizza dalla direzione generale sicurezza stradale del ministero dei trasporti eh spagnolo e devo dire che ehm questi tre eh questi tre componenti della della sessione eh secondo me rappresentano una scelta molto felice noi abbiamo in primis eh eh la possibilità di confrontarci con eh i migliori nel linguaggio internazionale sono i best performer eh in ambito europeo in termini di sicurezza stradale alcuni perché hanno conseguito un miglioramento enorme eh negli ultimi dieci anni e parlo in particolare della Spagna e della Francia che hanno eh raggiunto e abbondantemente superato la riduzione del 50% in particolare devo dire la Spagna ha raggiunto un risultato altissimo superando se non vado errato abbondantemente il 70%. Dall'altro lato abbiamo un best performer storico la Svezia che non ha eh avuto trend di diminuzioni altrettanto elevati ma perché partiva già da un livello molto molto alto la Svezia insieme al Regno Unito e all'Olanda hanno sempre rappresentato il il trittico dei paesi migliori in termini di sicurezza stradale sia in ambito europeo ma anche in ambito mondiale i cosiddetti paesi San Sweden United Kingdom Netherlands che hanno iniziato un programma di ricerca il programma Sunflower che ha costituito negli anni un riferimento fondamentale per la ricerca e per le politiche sulla sicurezza statale in Europa al tempo stesso la scelta è felice perché abbiamo due paesi con delle caratteristiche direi socio-economiche culturali ma anche climatiche molto simili alle nostre questo che significa significa che le buone pratiche ehm adottate in paesi come la Spagna e la Francia simili al nostro possono essere più facilmente e più immediatamente importate nel nostro paese con la probabilità che siano altrettanto di successo nel breve periodo nel caso della Svezia invece abbiamo un paese con delle caratteristiche diverse rispetto a noi eh sia dal punto di vista sociale culturale eh geografico climatico quindi questo che significa che dobbiamo stare un po' più attenti ad importare le buone pratiche svedesi in Italia non è detto che ciò che funziona a Stoccolma funzioni immediatamente anche a Roma piuttosto che a Napoli o a Palermo ma al tempo stesso parlando di un paese che ha rappresentato e rappresenta l'eccellenza nel campo della sicurezza stradale quelle politiche noi dobbiamo vederle come importabili nel medio lungo periodo quindi qualcosa da cui qualcuno da cui possiamo imparare per subito qualcuno da cui possiamo imparare per il medio e lungo periodo detto questo cedo subito la parola al nostro collega spagnolo che ci presenterà le buone pratiche che hanno adottato in Spagna grazie grazie buongiorno io parlerò in inglese perché anche il mio figlio vive qui in Roma con la sua mamma io quindi parlo un po' italiano preferisco l'inglese per parlare in pubblici ok first of all I would like to apologize the absence of our general director Mrs. Maria Segui who sends of you a cordial greeting because this time of constraints we have I will restructure the presentation and its sequence well as you can see I am the director of the national center for camera assistant fine enforcement that is in Leone in Spain well let's see as you know Spain is one of the leaders in the reduction of the of the accidents in Europe may I stress Germany that is close to us in this in this figure but this history as previously said does came because we have at the beginning of the of the 21st cycle high levels of accidents this is our figures of the last 30 years as you can see we have a peak at the 19th that was faced with roads police campaigns education and new basic rules for instance for drink and drive buses seat belts but the question is what did we did afterwards well these are the figures of the last five years and as you can see we have a big reduction in rule violation and inappropriate speed these are the five killers the principal killers of our of our statistics let's see what did we did with did we do with with this five killers well first of all we trust on the on the surveys Sartre project a European Sartre project was basic for us and we discover in the results of Sartre 3 some important numbers for instance the people that considered the behavior for the risk that but they were weakly in the numbers of alcohol in 7.2% so Spain was the fourth of 23 European countries beginning by the last or for instance the 24% do not consider seat belts necessary should you drive carefully these figures must be changed at the beginning of the of the last decade and what did we did well this slide is may I said the summary of what has been done in Spain and what is going to be done we call the we distinguish between massive and light weapons may I say the massive weapons was used in the past decade and as you can see speed cameras the merit point system especially specialized prosecutors law we increase into a 30% the police officers we create in the 2008 the national center for camera system fine enforcement we change the criminal code and we arrange a new penalty procedure in 2009 for instance in 2009 this new procedure has the following measures should you pay in less than 50 days the slide infringement is half should you owner of the car do not identify the driver the fine will be doubled should you do not open the letter will send the communication to the traffic fine notification bulletin board present at the DGT web page and finally should you do not pay the Ministry of Finance size your accounts this is very important in order to communicate the citizens that the fines must be paid these are massive weapons and without without focus it's focused to all the population but there are light weapons that are focused in the what where when and how these light weapons are the ones that we are now putting in practice some kind of massive weapons for the future years well I will explain you afterwards but we are going to change the traffic code next year or we are going to establish a new drug public policy well in order to to speed up the presentation these are the books and the different strategies we follow in the past but let's see what we did with the point-mary system well the results of the studies are published and one of the the principal studies are the Novoa one and the Castillo Manzano and one of the the principal research was that among men it's observed a significant risk reduction in the intervention period for seriously injured drivers or that the risk reduction is greater among male drivers moped riders and urban roads by other side the 12.6 reduction in the number of deaths in highway accidents these are the principal results that we discover with the point system but more than this is this next slide as you can see there is a tendency to stabilize after 2012 in the sector of courses focus of partial recoveries and a reduction in the level of courses focus to recover the complete driver license this tendency matches with the following table that shows the number of driver license lost as you can see there is a downward trend for 2010 from 2010 so it seems it works as you can see afterwards we are now focusing of different persistent violators enforcement well we have been hearing today this morning many questions about enforcement but may I say that we follow step by step the EU escape project and the elements that McKinnon explained in the 2003 for us this is key the enforcement planning should design the information campaigns by one side and by the other the control methods these methods should be characterized by its unpredictability the binomial visible non-visible and the concentration and duration the information campaigns must be oriented to improve the positive attitude of the drivers and their knowledge of the risk by other hand these campaigns must improve the subject probability to be controlled this subject probability is by other side improved by the objective probability that it is influenced directly by the control methods the subject probability then the driver attitude and the knowledge of the risk and a good penalty procedure as said before would finally improve the observance of the rules the penalty procedure should be first of all lawful fair just and reasonable second third quick and diligent and internally must be agile in order to easy the work of the civil servants this is key for the Spanish the Spanish case well enforcement studies as has been mentioned before Sumala Sunflower or Elliot and Brogdon well for instance the 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 Sunflower studies so that this is necessary a minimum level of enforcement to obtain effective reductions of the percentage of violators and this is what we did next is a slide presents the results of the Guardia Civil as you know is similar to the Carabinieri in La Italia and the big numbers show that in the last thirty years a negative correlation the most police the less fatalities as you can see we decreased the number of policies in the nineties and it was increased the number of fatalities and when we grew up in the past the number of fatalities decrease well another question about the enforcement for instance we increase the number of alcohol tests from 2003 to 2009 in more than 3 million or speed controls we increase from 16 million to 26 million the positive in alcohol tests reduce in this period from 4.18% to 1.77% or the death drivers with more than 0.3 grams per liter in blood were reduced in seven points for instance the the positive in speed controls were reduced a little bit well this is clear of course there are a mixture of causes that afterwards I present well this slide in Spain I think has never been presented it is not a secret but we usually do not communicate is the the numbers of the fixed rudders active equipment and the numbers of fines per equipment as you can see there is a tendency to stabilize even to increase in the last month is the economy improving the drivers forget the rudders we will see but as you can see there is a tendency to stabilize the number of fines per equipment we have in Spain another question how to isolate variables well the Polytechnic University of Madrid and its laboratory in Syria made a statistical study taking into account infrastructure mobility economy casualties legal modifications point driving license enforcement the so called drug model saw these results and tried to differentiate the different causes for instance if you increase a 10% the number of police officers the drug model says to you that there is a reduction of 8.27 points in the fatal accidents or for instance that the criminal code reformation reduced the number in three points well which is the future well the future is based on two basic guidelines the first guideline is the the law to 2020 the law that was approved in the in the year 2011 the green economy law that mixes in in a big group environment economy society and energy the second the second guidelines are the ones that came from the European Commission or the United Nations even though from the European organization for cooperation and development so these guidelines led us to publish the national strategy for road safety for 2011 to 2020 but how did we did now well this is a very funny slide but this is very important to the ones who organize the work inside the ministry by one side there are the tools education engineering and enforcement by other side is the DGT structure the ministry structure and by the other the priority actions and you have to cross over these three important issues in a mixture the picture the priority actions we have in this for the future are these information systems alcohol handicapped people or for instance the persistent violators in order to speed up the presentation these are what has happened in Europe in urban areas and these are the numbers of our urban areas for instance that the city has contributed to the decrease less than the roads or for instance that the heat are still the principal cause of death in the cities some kind of numbers that may ask to prepare how to work with the regional and local governments but we have a problem because as a government the constitutional principles force us to respect the government so we have to coordinate and cooperate with them and how? well there are some tools for instance to prepare the urban and road safety plan to help them to organize the ordinance of traffic and mobility or to help them in the training plans but how do we do? for instance with the regional governments we have a memorandum of understanding now the memorandum of understanding is a common tool and what we offer from the state to the local governments for instance access to the state records by cost drivers points provide easy access to the records for instance even via free software that we create for them or an assist to help for the elaboration of the urban plan the segment of the equipment for alcohol and drugs enforcement to help them in the ITS installations or even though to help them in the fine management like in the center i direct or the local government what does offer to the state compulsory sharing of information point non-payment of taxes injured people fatalities so this is the memorandum of understanding we have with the with the urban roads with the town hall in the question of speed i'm going trying to finish in one minute or so first of all this is our network of roadways is free more than 16 thousand kilometers free that you can drive in Spain by other side the consumption of automobiles as you see from the beginning of the crisis in the 2011 it has decreased by other side the number of fatalities per road as you can see it has been stabilized in the last two years by other side the comprobation of the Nielsen approach by other side this is very important first of all you have we have the 80% of the fatalities in the conventional roads even though in the conventional roads we have a worse index the number of accidents and died people per billion of passengers kilometers is worse in road conventional roads and even though this that says that in the conventional roads most of the people drive with a high speed so what are we going to do in the next in the next law more or less what Germany suggests you can increase the speed on the highways 130 kilometers per hour only in those roads that shows low indexes second we are going to modify the the code in order to reduce the speed on conventional roads for 100 to 90 kilometers per hour and third in the urban areas we are going to reduce the speed from 50 kilometers per hour to 30 kilometers per hour so we are opening the speed a little bit in the motorways but we are going to reduce in conventional roads any other questions we are going to tackle the injuries as it has been said before we have discovered it is going that the numbers that came from the hospitals are the double that the numbers that came from the police we are going to tackle this question as the European commission suggests and in the question of alcohol we are going to organize new rules to tackle this problem we have that we have discovered in the Druid program that 90% of the drivers present rest of drugs in the test we did so we are going to change the rules in order to easy the controls of drugs in the Spanish roads well to finish as you can see mass measures organized to order all the population and focus measures now in the future for certain kind of urban areas conventional roads and these kinds of problems like the violators handicapped people or vulnerable and that's all in the time I had thank you thank you Mr. Arbaeza io direi mentre chiamiamo a presentare Mr. Joel Valmen il messaggio che almeno io ho colto è uso dei risultati della ricerca internazionale e enforcement anzi uso dei risultati della ricerca nell'enforcement quindi approfitto della presenza del nuovo capo della polizia stradale per permettermi un piccolo suggerimento di utilizzare sempre di più risultati nella ricerca nella importantissima attività che svolgete quotidianamente sulle strade thank you hello to everybody so I will do also my best to to wrap up a bit my presentation you will not have a complete presentation on the French road safety policy because I have no time for that and I have been told that I have to focus on some aspects in our road safety policy and second main reason I'm French and you know in France lunchtime is very important so the summary I will just explain some little aspects on the road safety department organization and as I said two aspects on the road safety policy in my country the enforcement policy for ten years and also what we are planning for the implementation of an alcohol interlock program so beforehand the representative of the European Commission spoke about the integrated approach regarding road safety it means that other ministries are concerned health ministry national education labor justice and so on we applied we applied this integrated approach in France for 40 years it means that my boss for example is director general for road safety but he is also inter-ministerial delegate it means he has an administrative role and also a political role so I am the technical advisor of him technical means that I'm I know what I'm speaking about if the adjective technical is not there you have advisor political advisor who are just let's say supposed to know what they are speaking about but they know sorry it's a mistake so we have in our road safety department we have people coming from other ministries and who are working in our road safety department the whole time so they are coming from from the ministry of labor justice national education health and they are here making sure that their ministry remain involved because I I'm working in road safety domain for 36 years now I heard a lot from president prime ministers and ministers saying oh road safety it's really a huge human cause we have to work together we have okay but please keep the speech for sustainable not once and then it's finished so we have to make sure that people continue to be involved and we wanted in our ministry to be sure that other ministries kept involved in this policy so my boss is appointed by the prime minister which gives to him I would say a more important role than any director general of other ministries and we have also a national inter-ministerial observatory it means that we have all the statistics coming from all different ministries which can impact road safety statistics and this organization we have that for 40 years we have also national bodies the minister of interior who is in France in charge of road safety Manuel Valls relaunched the national council for road safety we have numerous stakeholders 40 about 50 now stakeholders from we have private companies we have road safety association and we have in France some let's say aggressive road safety association saying that we are never doing enough and some other saying you are doing too much let freedom to drive so we have these people together and it's always interesting to hear them to listen to them in a session and well the role of this council is to formulate recommendations to the government then of course we have also the minister has announced that in France by 2020 we have also the European target to have again the number of fatalities because we did it in 2010 and then this recommendation will go to the government and based on these recommendations the government will take decisions maybe not it will not follow all the recommendation of the council and then it will be the formulation of the road safety policy by the prime minister and at the end the inter ministerial delegate is in charge to coordinate the implementation of the decisions taken in this committee so it's a quite organized process of course you know this kind of graph starting in 1972 where we had in France 18,000 deaths on the road and now in 2012 we have and also to say that as it was said this morning it's not a flat line it's impossible to have a line with a constant reduction of the number of fatalities we have always to convince our citizens that they have to behave carefully on the roads and in 2012 we have 3,653 people killed on the roads fatalities on the French roads more or less the same as in Italy but we have more inhabitants so we have a rate of 55 56 people killed per million inhabitants it's more or less the EU average which is which is good but which is not enough of course so we we implement some very interesting program which is the French automatic enforcement system of course when you speak about road safety you can always present very nice diagram very nice curves saying to countries please try to do more to do better and so on but please we need financial resources human resources and don't forget that we are in an economic crisis with a reduction of the money dedicated to road safety minus 70% in France this year for road safety next year it will be minus 20% so we have to deal also with that and we have to increase the to improve road safety with a reduction of resources you have also to bear that in mind so in the French automatic enforcement system it was a decision taken by the President of the Republic Jack Chirac in July 2002 the first speed camera has been installed in France in October 2003 so it took some time to define the program and to install the first speed camera but just to point out between July 2002 and October 2003 without any speed camera on the French road we had a reduction of 1500 people killed on our roads so just the announcement of we will install something on the roads and you see when you say to French drivers that they will be enforced wow it's a huge decision taken by the President at this moment maybe it's it's of course different with British people or Swedish people but in France and of course we are always invited in conferences why because we have a reputation of having some difficulties with respecting the rules which is not the case with the Scandinavian countries or United Kingdom for example so the legal principle has been written in the law because the offense is not certified on the spot it is done in one center for the whole territory of France in Rennes in the western France by policemen and of course all automatic devices are certified type approved and so on and we have also in the French law the fact that the the owner of the vehicle is always financially responsible for the fine so even if he or she is not a driver he or she has to pay and then of course with I just like to add that we are the only country in Europe making sure that the penalty point system is working with the first kilometer per hour above the speed limit which is not the case in other countries in Italy you have to wait until 10 kilometers per hour above the speed limit to apply the penalty point system and in other countries it's with 20 kilometers per hour above the speed limit of course we had a reduction of the average speed in France of 10 kilometers per hour which is a huge improvement in 10 years because we applied the penalty point system French drivers it's not a problem for them to pay because it's not so high the fine is not so high but the fact that they lose points when they are speeding even 2 kilometers per hour 52 instead of 50 you lose 1 point and you have only 12 points when you are not respecting a red traffic light is 4 points when you are phoning calling it's 3 points so then you have only 4 points less resting so of course you can see that it's a reason why we had good results then of course it's very important to explain to people where these speed cameras have to be installed not because most of French drivers are thinking that we are putting speed cameras where we are sure that they will be caught no it's in areas where number of accident is high the rate of speeding is high and where we want to protect pedestrians or vulnerable world users and also sometimes where the police cannot act because it's dangerous for police forces to be beside the road and then locally the prefect who are the representative of the state in the region have to implement what we want them to do so where are we now we have a bit more than 4,000 automatic enforcement device all these devices are automatic we have 2,200 speed cameras fixed mobile around 900 700 red light cameras they are working very well really very well because we have a lot of people not respecting the red traffic light we have also some for the railway crossing and now the three last are the most important because we are developing new cameras selective or discriminating speed cameras it means that these cameras are able to make the difference between a lorry and a car which is very important to apply to enforce track drivers and also discriminating when you are on a motorway and you have two or three cars in front this camera is able to say ok it's the car in the middle which did the offence so it's very important and then average speed cameras but it's also the case in other European countries and the last cameras of new generation embarked in in police forces cars so when people are overtaken overtaking the the police car they are caught by the camera installed in the car the police car and also when people are coming in front of them so nobody can see that it is a police car so and of course French drivers are not so happy with that but another thing very quickly you have these wonderful results for United Kingdom and the Netherlands which is great of course but just to say these wonderful drivers when they are in other countries for example we have every year 500,000 British drivers doing offences on our roads 500,000 these wonderful drivers are not so wonderful in other countries for the Netherlands second best performing country in Europe 200,000 offences only 16 million inhabitants and 200,000 in speed cameras in France don't speak about interception by police forces because we have also and we also invited the Dutch police to help the French police to stop these Dutch drivers on our motorway so are they so convinced by a road safety issue I hope so but I'm not so sure and maybe it could be a good work to a TSC to work on that and to address this issue because it's nice to have very good reserves for countries but these drivers are not so convinced by road safety it was just a part sorry so the process overview yes it will not be I will not describe that just to know that when the offence is done for example on Monday on Wednesday the driver is sure to have the notification in his mailbox two days after not more so it's really quickly he has to pay and then he will be punished and prosecuted quick quick about the alcohol interlock because I've been told about that there was a decision in 2008 to install alcohol interlocks in old school buses and new buses as from the 1st of January 2010 have to be equipped with alcohol interlock it's an obligation in France and the retrofitting shall be finished on the 1st of September 2015 for school buses and of course we are now thinking about perspectives by using alcohol interlocks for people having a BHC level of more than 0.8 0.8 0.8 is a delict maybe a crime I don't know how you say that in English but the BHC level in France is 0.5 it's an administrative offense and then 0.8 is a penal offense and of course recidivist the judge will be able to impose the alcohol interlock we are at the moment trying to convince the judges to use that and to develop the use of alcohol interlocks for people having been caught in drink driving and it is the role of my colleague coming from the Ministry of Justice and working for the road safety department to do that so you see it's a way also to involve other actors in our policy and of course if the driver does not respect the obligation the fine is very high and it can be in jail for up to two years so more and more the judges are taking decisions of imprisonment for drivers which is good so that's it a part of the French policy thank you very much just a short question you talked about the British and Dutch violators how many Italians so Italians is 400,000 and I have an appointment this afternoon with the person in charge in the Ministry of Transport to implement the CBE directive and I will try with him to 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 start the work of the connections because it's good to say we have a cross border enforcement directive but you have a huge work to do to make sure that the connection between between different countries work problem is with United Kingdom United Kingdom will not be part of the cross border enforcement directive which is a pity because it's good to speak about road safety but please speak about road safety in your island but don't come in the EU meetings if you don't want to be part of something no it's clear we have to to work together or not it's a decision and then of course we anticipated with some countries we have with Luxembourg Belgium Spain as from August and with the Netherlands we started three three days ago last Sunday to prosecute Dutch drivers on the French road so these are Dutch drivers here take care if you are driving in front thank you grazie grazie ancora due messaggi al volo che emergono da questa presentazione di nuovo un enforcement molto accentuato soprattutto con strumenti automatici a distanza e forse un livello ecco di cooperazione interministeriale che mi corregga il direttore Dondolini se sbaglio forse in Italia un po' più difficile rispetto a quello che ci ha presentato il collega francese l'ultimo intervento è della collega Anna Vadebi del VTI svedese can I define Sweden as the road safety world champion? thank you very much and thanks to ETSC for inviting me and and it has been a very inspiring day today to hear about experiences from other countries and as you heard my name is Anna Vadebi I work as a researcher in traffic safety at the VTI which is the research institute in Sweden and and I will talk about today our new management system we do not have a road safety plan in a traditional sense but we have a new management model that we call management by objectives so I will start with briefly talking about Vision Zero and how the process led towards the new management model and focus on stakeholder collaboration goals and performance indicators and our annual follow-up and finally I will end up with some results from our conference in April this year so Vision Zero in Sweden we started with this in 1997 it was established through parliamentary resolution and it relies on two basic approaches it's that care of human life and health is considered to be more important than anything else and it's this shared responsibility between the road users and the system designer so the road users are obliged to to keep speed limit use safety belt to follow the rules but the system should if you if you follow the rules but make mistakes the system should be designed so that you still survive and do not get seriously injured and the long-term goal of course is that no one should be seriously injured or killed in road traffic but what happened then in 1997 it was this Vision Zero then we had some years when the development was not that good as we wanted we had an interim target for 2007 stated that we wanted 270 or no more than 270 deaths but if you can see this picture the red line illustrate the development we desired but the blue bars illustrates what actually happens so in 2007 we ended up at 440 deaths instead of the goal of 270 and then there was an evaluation looking what went wrong here and the evaluation focused on three areas that where it hadn't worked the way we wanted it was that the involvement and undertaking of stakeholders and others were missing people could not see the connection to these road safety goals to their own operation they were on a too high level and the annual follow-up illustrating the development every year was unclear so it was decided that we should work a little bit different in the coming years so first of all we should have a multi stakeholder approach there should be a collaboration so that it's clear and stated that everybody shares the same goal there should be a clearer collection to your own operation and I will talk more about all these points just in a while it was stated that we should have several interim targets and we should work with road safety performance indicators and it should be annual follow-up of results where results were made public so this multi stakeholder approach it's a group led by the Swedish transport administration they have regular meetings seven or eight times a year and it's different stakeholders it's of course the transport administration it's also also the transport agency which have the responsibility for legislation among other things other things it's the ministry of enterprise energy and communications it's a national police board it's municipalities it's our some it's Toyota Sweden it's an insurance company folks it's the national society for road safety and the Swedish work environment authority so all these parties come together seven or eight times a year discussing discussing which relevant issues and what what actions all of these organizations are doing so this is to ensure that they have the same goal and cooperate between measures what to do with a connection to your own operation people didn't really saw that when we were talking about we should have 270 deaths how should I work with this area it wasn't obvious one deaths here and one death there it's not easy to feel that my organization can change this so it was decided that we should work with road safety performance indicators and we have heard of this today of course but instead of just looking at the consequence in the number of deaths we have stated which I will show you ten road safety performance indicators that have a close connection to the outcome in the number of deaths and to these road safety performance indicators it's more easy to see what measures can we work with and you can also have ideas about can a management system help to affect these performance indicators looking at the interim targets and these indicators we have the target year 2020 as many of many other countries but we started this in 2007 it has been written that you could do minor revisions for example if there is something showing in the indicators it was also written that you should do major reviews 2012 and 2016 looking if you are on the right direction consulting international expert etc and we have two targets both for the number of deaths it's 220 for the year 2020 but this is also being under revision to see if we should adapt it in line to the EU target but it was also a reduction of the number of seriously injured by 25% during the same time period and as we heard earlier today this has made that we have a stronger focus on the vulnerable road users that we had before and we have these 10 performance indicators we started with 13 but under the revision the review 2012 we changed some of them were removed and there are some new that were added and but and these are not so special I mean they are speed compliance both on the state roads and municipality streets and I will also show you that we Swedes are not that good at keeping speed limits you know maybe and you didn't mention us in the French statistics but and we have looking at sober drivers seat belt use helmet use both for bicyclists and mopeds we look at safe passenger cars safe power two wheelers safe state roads and then we have two two new indicators that are called safe municipality streets mostly focusing focusing on pedestrian crossings on the streets and also maintenance of cycle paths and pedestrian walkways and these two indicators are introduced because we have seen when we looked at the number of seriously injured that the cyclist for example is a the largest group among the seriously injured in Sweden so that's it's an area that we need to work with and the annual follow-up we have result conferences every April and where all these indicators and the seriously injured and the number of deaths are studied there is a written report from a group of analysis it's the VTI is the Swedish Transport Administration and it's a Swedish transport agency that are participating in this group of analysis and this group is preparing a report so it's one report that is printed every year where all these indicators can be followed so through these conferences all the results are made public and it's also important that we have participants at high management level so our Minister of Infrastructure she has been there every time participating and talking about areas that we should focus on also there will there are also presentation of stakeholder activities how maybe how a municipality have worked with their road safety plan or how a transport company has worked with better speed compliance for example and some years as I mentioned there are comments or suggestions from international experts so how does it look like now we have still the red line from 2007 and the level we started at 2007 was 440 and we have this goal for 2020 the green line illustrating the way we want it to go and the bars illustrating the way things actually are going and we can see that we had a very large decrease we had a positive development the first year and we have an extremely large decrease in 2010 similar to some other countries it was the lowest level since the second world war and then we had a backflash you could say in 2011 and now it's continued to decrease again so we think we're in line if we look at the total number of deaths and this is not meant that you should read it just look at that there are some green areas there are some red areas it's the performance indicators so it's the number of killed number of seriously injured and we think we're on track there looking at which areas we think that we should work with it's for example speed compliance which is one of the red areas it's a helmet helmet wearing of cyclists which also is one of the red areas then we have some white areas and it's new indicators that we have it was the first year of measurements or it's it's still we're still looking at how should we measure this indicator so I will just end with some examples of the indicators so here is our the worst one you could say the speed compliance we have had a new speed limit system in Sweden during the last year meaning that we have lowered the speeds on the rural roads and on our safest motorways we have increased the speeds to 120 from 110 but the biggest part was to decrease the speed limit on rural roads from 90 to 80 but we also see here that we have a worse compliance on these roads the mean speed it did decrease but it decreased about 3 km an hour when the sign changed by 10 so of course then the compliance worst on these roads so we have a goal 80% of the traffic should follow the speed limits in 2020 and we are at not at even at 50 now so this is an area where we think that we should really have a strong focus to to have better compliance and there we are speaking about new speed cameras we also looking at what ISA could give since when it's introduced in Urancap for example looking at the sober drivers here is one area where we think we are right on track we have a goal that almost everyone it's 99% we don't maybe think that we could remove everyone even if that's in principle is the goal we have a series looking for from data from police breath test control and a colleague of mine have developed this methodology and we can see that we follow quite closely to the to the required trend to reach the goal of 99% for 2020 if we look at the number of deaths we can see that even though it's a very small share that is driving under the influence of alcohol they are still quite present in the fatalities it's about between 15 and 25% the last years so it's still an area that we think it's important to continue the work and I can mention that we had a new law from the 1st of January concerning alcohol for drunk driving offenders it's a mandatory alcohol interlock rehabilitation program meaning that if you have your driving license withdrawn due to drunk driving you can apply for keeping the driving license if you install an alcohol lock it's a it's a one or two year program depending on the severity of the crime it includes regular medical supervision and testing testing for drugs etc because if you if it's drugs involved you cannot take part of this program since alcohol will not stop you from driving under the influence of drugs it's also regular checks and service of the interlock device and the alcohol program does not affect the punishment so if you have had fines or prison this program has nothing to do with what happens with that one and this program will be evaluated it has not been done so because it's quite new but I can just mention that during 2012 about one third of the drivers with withdrawn license applied for the program and the first half of this year it's about 40% and of course you want this this number to increase we also have and I think that someone mentioned that earlier today more than 70,000 alcohol lock interlocks installed in the commercial transport and that's due to voluntary basis also in private companies more as a quality assurance tool just you can have a quick look safe passenger cars is another area that we follow and it's the share of traffic done by five star URENCAP cars and there we think we're on track and then safe state roads the last one then we are above the green line looking good that's all thank you thank you Anna il messaggio in questo caso non può non soffermarsi sul sistema di gestione della sicurezza statale l'attenzione ai safety performance indicators prima che al numero di incidenti morti e feriti e mi fa piacere constatare che è un approccio che anche nel nel nuovo piano nazionale sicurezza statale italiano è stato adottato quindi l'attenzione ai safety performance indicators oltre ai risultati finali a questo punto io tendo istruzioni da Umberto Guidoni ma non c'è il tempo per la discussione perché credo che che voi abbiate anche voglia di mangiare qualcosa e di sgranchirvi un po' le gambe vuoi fare un saluto finale? e la presentazione che avevo preparato la lasciamo qui in bella mostra così sapete chi parla ma non andiamo avanti io innanzitutto volevo ringraziare i miei collaboratori e i suoi collaboratori che hanno realizzato questo convegno oggi e che sono riusciti in qualche misura a mettere insieme tutte le voci che in qualche modo operano per la sicurezza stradale dalle istituzioni europee dalla commissione europea a le esperienze positive di alcuni paesi che hanno hanno mostrato una reattività profonda rispetto alla riduzione dell'incidentalità stradale la voce del governo italiano la voce del parlamento italiano la voce del settore privato che siamo noi e quindi tutto sommato abbiamo sentito un po' tutti i punti di vista e quindi io qui potrei chiudere il mio intervento con i ringraziamenti però purtroppo siccome ho una come dire una vis polemica che fa parte di me non riesca a controllarla qualche cosa la devo dire allora io credo che in questi anni siano stati fatti moltissimi passi in avanti parto dalla commissione europea credo che la commissione europea abbia dato delle indicazioni molto importanti stia dando delle linee di indirizzo forti ma io purtroppo quando penso alla commissione europea penso sempre agli uffici a Bruxelles nei quali ci si mette dentro e ci si dimentica un po' di quello che succede al di fuori e nella realtà quotidiana solo per dire noi stiamo parlando di 30.000 morti l'anno cioè stiamo parlando di una catastrofe che non ha uguali per nessun tipo di catastrofe naturale e ancora ci stiamo interrogando sulle definizioni dei feriti allora io credo che sia necessario mettersi in testa che è il momento di fare delle cose e di invitare i singoli paesi attraverso delle forme di penalizzazione e attraverso delle forme di premio anche sotto forma di risorse affinché gli obiettivi che giustamente gli indirizzi che l'unione europea dà vengano raggiunti la burocrazia ha una sua rilevanza le esigenze dei singoli paesi hanno una loro rilevanza ma qui non stiamo parlando di statistiche di carattere economico e qui stiamo parlando di numeri che sottendono a gente che perde la vita o che vede la vita in un momento cambiare totalmente e quindi è necessario avere la fermezza e la forza di volontà di prendere misure che impongano ai paesi soprattutto a quelli più in ritardo di fare delle cose passo alla nostra situazione, la situazione italiana io credo che sono dieci anni che mi occupo di sicurezza stradale come segretario generale della fondazione quindi sicuramente c'è chi più ha esperienza di me in questi dieci anni ho visto dei ministri che si sono succeduti sinceramente l'intervento oggi del ministro mi è piaciuto non tanto per i contenuti che sono sicuramente contenuti importanti ma per la passione che ha messo nel suo intervento e soprattutto perché per la prima volta ho sentito parlare di risorse stanziate e quindi questo significa sicuramente anche la possibilità di fare delle cose credo che gli interventi che lui ha proposto siano gli interventi prioritari sulla trasporto persone io credo che oltre al rinnovo del parco circolante bisogna cominciare a pensare di utilizzare la tecnologia e il sistema interlock che è stato citato poco fa per esempio in Svezia sul trasporto pubblico ha funzionato molto credo che qualche sperimentazione anche in Italia in questo senso bisogna cominciare a farla e noi comunque ci siamo anche per intervenire dal punto di vista economico sicuramente l'Italia ha fatto dei passi avanti notevoli credo che però i numeri poi bisogna guardarli un po' più dal di dentro noi abbiamo raggiunto risultati importanti sulle autostrade dove è stata utilizzata la tecnologia con i tutor in modo particolare che hanno ridotto drasticamente l'incidentalità stradale stiamo estremamente in ritardo sui centri urbani se andiamo a vedere la mortalità noi vediamo che l'incidenza percentuale sul totale della mortalità dei veicoli a due ruote quindi degli utenti deboli negli ultimi dieci anni è aumentata ai dieci punti percentuali quindi noi è vero che diminuiamo i morti, diminuiamo soprattutto i morti in automobili gli utenti deboli diminuiscono molto meno di quanto non diminuiscano quelli in automobili quindi l'incidenza percentuale di queste aumenta quindi ho preso quello che ha detto Sergio Dondolini lo sottoscrivo perché intervenire sugli utenti deboli è importante e bisogna vedere però come farlo perché per intervenire sugli utenti deboli bisogna andare nelle città, nei centri urbani vi faccio un esempio a Stoccolma ci sono 88 metri di piste ciclabili per abitanti, a Roma 5 a Helsinki 254 per esempio allora è necessario fare degli interventi che determinano la necessità che le città i centri urbani si dotino di risorse per fare la manutenzione delle infrastrutture chi va in motorino in città rischia la vita ogni metro che fa perché si muore soprattutto perché ci sono le buche perché ci sono tutta una serie di cose che noi conosciamo e che non vi sto a ripetere ora per poter raggiungere risultati efficaci, definitivi e strutturali è necessario avere delle risorse allora noi abbiamo un articolo nel codice della strada e quindi io sono contento quando si dice che per la trecentesima volta si vuole modificare il codice della strada ma bisogna modificarlo in maniera sensata il codice della strada bisogna fare gli interventi che servono e noi staremo attaccati questa volta alla commissione e se ci sarà una legge delega al ministro e questi interventi sono semplici noi continuiamo a dire che c'è un articolo del codice della strada che prevede che un tot dei proventi contravvenzionali vadano per la manutenzione delle infrastrutture ci dimentichiamo e noi sono dieci anni che lo diciamo che non c'è una sanzione per chi non lo fa allora o ci mettiamo in testa che bisogna mettere una sanzione nei confronti degli enti locali che non fanno sta cosa e utilizzano le risorse per andare a tappare i buchi di bilancio oppure noi purtroppo l'intervento sugli utenti deboli non riusciremo ad ottenerlo perché chiaramente fare la segnaletica vi faccio un esempio noi abbiamo investito mezzo milione di euro per rifare le strisce pedonali alcuni attraversamenti pedonali a Roma da un anno all'altro i morti tra i pedoni a Roma sono diminuiti del 20% e abbiamo investito mezzo milione di euro allora è evidente che c'è una correlazione diretta tra le infrastrutture e gli utenti deboli è chiaro che poi gli interventi sui comportamenti sono essenziali ma gli interventi sui comportamenti implicano delle modifiche culturali che non possono immaginarsi in breve periodo ora bisogna fare le cose che ci consentano realmente di ridurre laddove noi abbiamo la necessità di ridurre e questi sono appunto gli utenti deboli e questo è uno dei punti fondamentali che noi dobbiamo modificare nel codice della strada quindi prima di tutto semplificazione perché la gente non conosce le regole e bisogna renderle chiare attraverso poche norme chiare e nette e dall'altra parte la possibilità di ottenere delle risorse per poter fare gli interventi che sono necessari su quei picchi e su quegli soccoli duri della mortalità che noi non riusciamo ad aggredire in maniera necessaria e per dare la possibilità a Sergio Tondolini che si batte da anni su questa cosa non perché è amico mio ma perché veramente lo fa di fare le cose perché se non c'ha le risorse che fa? quindi mi scuserete per la mia come dire, per la mia memenza in ora tarda peraltro ma purtroppo la passione e soprattutto avere a che fare con questa situazione da anni mi porta ad avere, come dire, l'urgenza di fare determinate cose per quanto ci riguarda noi ci siamo cercheremo di continuare ad esserci il settore assicurativo con i suoi mille limiti comunque continua ad investire delle risorse importanti per fare attività di sensibilizzazione per sostenere le istituzioni anche finanziariamente affinché possano risolvere le cose se noi potessimo pagare gli straordinari alle forze di polizia lo faremo volentieri perché chi sta poi sulla strada deve avere anche la possibilità di poter effettuare i controlli noi lo possiamo fare e cerchiamo di sostenere le forze di polizia in altra modalità sperando che riducendo le spese da una parte loro possano riuscire ad operare al meglio dall'altra vi ringrazio molto per la pazienza per la partecipazione per essere stati qui fino a quest'ora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti just to say that lunch is served at level minus one il pranzo è a livello meno uno 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 è a livello meno uno è a livello meno uno